Ho fatto la storia purtroppo, questo dito indica, avete visto? Adesso, guarda, posso pure toccarmi il naso, e ha fatto. Ciao, alla prossima. Oh, forse è venuta troppo lunga questa storia. Vediamo di editarla un po', ecco, un taglio qui, un taglio lì, uno zoomettino, mettiamo un'immagine, green screen, chroma key, ecco qua, una dissolvenza, bene, bene. Ottimo, così mettiamo una scrittina a schermo, un bel link, adesivino, chic e ciac. Poi perché sono ancora mutato? Non lo so. Eccoci qua. Confermi che è andata tutta così, comunque. Sì, sì, ho messo anche il green screen, tutto. Poi sono un amante del green screen, quindi lo vedevo l'ora di farmi un chroma key. Amici, io... Sì? No, niente. Tutto a posto? Sì, no, è che volevo ruttare. Però... E' l'ultimo. Evito. Ultimamente evito. Eh, meglio di sì. Ci sono gli ultimi fatti succeduti. Comunque, mi è venuto un mezzo infarto perché ho visto Persona 4 su Steam, me l'ho già gasato, ma è il picchiaduro, quindi non me ne frega niente. Cioè, se vi piacciono, dategli un occhio, però non me ne frega niente a me, personalmente. C'è in italiano pure, non so quanto serva, però... Monster Energy Supercross è uscito, ragazzi. È il gioco di moto da cross, ma ormai non c'è Tony Cairoli, non me ne frega nulla. Tony Cairoli è l'unico conoscendo. Marco, ma quando mai ti frega? Era lui che mi conosceva, Tony Cairoli. Che cosa, Liz? Eh, io mi frega fatte con nuove mappe, settimana prossima le facciamo, così poi diventeranno anche video. Non è vero. Non ci sono nuove mappe. Dopo andiamo a verificare. Sarà una mappa che dura cinque minuti, come al solito, e poi non facciamo un cazzo per due ore. Dopo andiamo a verificare. La cosa, la fai? Come la verifichi questa cosa? No, vado a verificare se c'è e quante sono. Magari raggiunte più di una. No, Persona 4 Arena, diceva Marco prima. Sì, Persona 4 Arena. Che è il picchiatturo. Che è in... Non è fra un cazzo a nessuno, in sostanza. Sì, no. Anch'io ho fatto sussulto proprio, Persona 4, invece no. Ma dall'altro, avevamo completamente ignorato questa notizia. Che oggi è stata completata che Amazon ha acquisito la Metro Goldwyn Mayer. Oh, streghetta. Nessuno l'aveva cagata per 8 miliardi e mezzo. La Metro Goldwyn Mayer? Eh, quindi adesso Prime Video avrà tutte ste robe che sono 4.000 film, 17 miliardi e mezzo diviso. Eh, beh, c'è tanta roba. Anche il cartone. E' un po' cagata sta cosa. E' uscito un po' in sordina, però... E' uscito Persona... E' vero, era già uscito Persona... No, era Persona 3... Persona 4, è vero, è già uscito. Però è tutto in inglese, ovviamente. Persona Poggers. E' uscito un nuovo trailer di Moon Knight, tra l'altro Marco l'hai visto? No. Ma chi se ne frega che oggi c'è Harry Potter? Che sei stupido, Marco. No, che coincidenza incredibile. Ma era quello lì, ma non è uscito oggi e non è un vero cagata. Che coincidenza incredibile è che oggi su Italia 1 danno il secondo episodio di Animali Fantastici. Tra l'altro ho visto che è diventato un meme Harry Potter per la Play 1. Nel senso che hanno... Ah, mi raccomando, chi riscatta il fantasodio, mi raccomando, partecipate. Non riscattate. Mi raccomando, oggi l'ha riscattato anche Phobos, non so se... Ma tanto rimangono salvate, se non cancelliamo la pagina... Comunque, mi raccomando, se lo riscattate, partecipate poi l'anno prossimo. Eh, che sennò vi dobbiamo cancellare da ogni evento. Ecco, bravo. Edgar Allambo. E mi raccomando, non cambiate il nome su Twitch, perché sennò non siete raggiungibili. Esatto, per favore, per favore. Non cambiate il nome. Tanne se siete Dangemr, lui può cambiarlo in caso. Però Massimo, se avete riscattato... Solo lui, no, solo lui. Se avete riscattato il posto e cambiate il nome, avvisateci. Comunque, a proposito di Moon Knight, Multiplayer ha fatto uscire un articolo che ho scritto che secondo le prime reazioni della stampa americana è il miglior progetto dei Marvel Studios. Che non vuol dire che sia... Cioè, vuol dire l'idea al miglior progetto, quindi... Non so come prenderla, questa cosa qua. E poi volevo mandare a cacare tutti quelli che hanno detto male del trailer di... Di... Grazie, meditore. Di Miss Marvel. Sì, perché hanno detto... Sembra un'immondizia terribile. No, tutti quelli che hanno detto... Eh, ma sembra una Lizzie McGuire, una sera per ragazzini. Evidentemente non ha mai letto Miss Marvel, non sa chi è. L'unica... Cioè, la cosa che era da criticare di Miss Marvel, nessuno l'ha criticata. Cioè? I poteri sono tutti sbagliati, non è... Ma perché non la conosce nessuno chi se ne frega? Le si mette i bracciali si ingrò... Ma perché non gli interessa nessuno quello? E che guardare il trailer sembrava veramente un... Una serie tv di Disney Channel. Ragazzi, è quello. Eh, ho capito, ma che cazzo c'entra con... Cioè, poi ti può non interessare? Ma no, è che è nell'MCU. Ma Miss Marvel è quello. Ma non lo... Non c'è bisogno che fai il film di tutte le cose che sono... C'è anche... No, Miss Marvel lo devi fare perché è collegato a Captain Marvel, è un po' piacere. Ma fallo più adulto, già che le cambi. È un po' come stanno facendo con Star Wars. Va bene fare cose, ma forse stanno esagerando di fare... E non c'è bisogno di fare... Un personaggio ha una comparsata e gli fare una serie. Ma Miss Marvel è importantissima nei fumetti solo. Sono comics, presi dai comics, io mi baso su comics. Eh, ma non c'è bisogno che fai il film per tutti i fumetti che ci sono. No, ma fanno la serie che magari è per un target più ampio, ma è così Miss Marvel. Esatto, anche Howard il Papero c'è su... Nei fumetti, però non è che fai... Ma infatti Howard il Papero ha le sue storie. Se lo vuoi mettere, lo prendi come Howard il Papero. Miss Marvel è un personaggio molto importante, che però è molto leggero. Perché poi... I fumetti parlano di lei a scuola con le sue prime cotte, i videogame, le amiche... Eh, ma non mi sembra che su Avengers nel gioco, per dire. No, anche lì. Ma non era una... Lì era a profondo come la mia unghia, quindi non potevamo fare niente. Però il mood non era le avventure di lei alla scuola materna. Ma infatti non sarà... il fulcro non sarà lei e le sue amiche, però ci sarà... Il fulcro sarà anche per i poteri. Il trailer era solo quello, però. Quello che dicevo io è che quel trailer anche io l'ho criticato, ma per i motivi giusti. Non perché sembra lì si è guai, perché è giustissimo che sia così. Ma secondo me no. Il problema sono i bracciali. Perché i bracciali non è... Andava bene... Ma non è vero, perché alla fine puoi cambiare il cazzo che ti pare, appunto. E potevi farlo anche più adulto, secondo me. E no, perché... Allora, l'unica cosa per cui non l'hanno messo è che... Il modo in cui lui prende i poteri è collegato agli inumani. E gli inumani non ci sono ancora nell'MCU. Perché è una polvere collegata agli inumani, bla bla bla. Ma lo facevi diverso, ma va bene. Ma no, ma non è vero, così non va... Cioè, allora, poi vediamo, come ho scritto anche nella storia di Instagram, ma non è che lo sto... Vediamo, magari è una cosa comunque molto carina. Ma quella lì è la cosa sbagliata, non che sia Lizzie McGuire. Perché che sia Lizzie McGuire, doveva essere così. Ma per il fatto che... È così, mi smargo. Se non sapete chi è, non parlate. Ma no, è che non lo fai. Non c'entra niente con il resto dell'MCU. Ma non è vero che non lo fai, perché può interessare un sacco di gente la storia di Misfargo. Poi, tra l'altro, parla anche del fatto che i suoi sono religiosi, del fatto che sono di una religione islamica, che non vogliono determinate cose, e lei invece vuole. Ma è una cosa interessantissima. Però, se non sapete chi è il personaggio, taccete, o leggettelo. Ma il fatto è che nell'MCU c'è un sacco di roba. C'è la roba più seria, come sembra Moon Knight, come lo vogliono fare. Non è tutto più serio. Ma non dico più serio. Il fatto è che... Cioè, la roba così c'era già con Spider-Man. No, ma non sono due cose diverse. Sì, sono due cose diverse. Però nel senso, Spider-Man andava a guardare il Target... Cioè, il Target, non il Target. Però andava a guardare un qualcuno di più giovane. Infatti c'è il Peter più giovane che c'è stato, praticamente, con Tom Holland. Eh, ma lei è ancora più giovane. Lei è ancora più giovane, però... Inoltre, sono tutt'altra dinamica. Sono tutt'altra dinamica. Con tutto il resto. Cioè, con tutto il resto che succede dell'MCU... Adesso vedremo, poi, quando esce, per carità. È come la serie di origini che ci sarà sugli X-Men. Non è una serie di origini, però. Cioè, nel senso, non è la serie di origini, nel senso che... Il passato di Miss Marvel... Ma no, sono due cose sbagliatissime. Thor Ragnarok è stato fatto in maniera ironica, dove l'ironia non c'era. Ma Thor Ragnarok poi è una roba che già prima c'era, Thor. Esatto. E' proprio due esempi che non ci azzeccano, Pocket. Mi dispiace. Miss Marvel è così. Nei fumetti, Miss Marvel, come Mood, è un fumetto per ragazzini. Però, nei fumetti... Che tratta tematiche, poi, anche più serie. Ma è un fumetto che... Ma nei fumetti, poi, c'è lei che va negli Avengers e fa... Nei fumetti, lei è stata nei Champion. E va alla scuola elementare. No, non va alla scuola elementare. Va a una scuola superiore, è una ragazzina. E c'è i problemi di cuore mentre combatte... Ha anche i problemi di cuore, perché lei è una fan... Con Thanos. Lei è come se fosse una ragazzina fan dei supereroi che diventa un'eroina. Inoltre, deve affrontare i problemi legati alla religione dei suoi genitori, al fatto che sono possessivi. È una cosa perfetta. E per lì va bene in un film Disney, è perfetto. Se io vi faccio vedere il fumetto, Se aprite un fumetto di Miss Marvel, è completamente colorato, molto particolare, colori sgargianti, dialoghi molto leggeri. È proprio così. Non è che... È giusto. E il fatto che sia nell'MCU è una cosa buonissima. Il fatto che l'abbiano voluta mettere nell'MCU è sacrosanto, perché è una storia diversa da tutte le altre. C'è stato anche un contrario, secondo me. No, perché l'MCU è tutto. Può esserci la serie di Daredevil cruda, violenta, quel che è, e c'è Miss Marvel che è una serie... Che fa diventare stupidi tutti gli altri, poi, perché andrà a finire così. No, non lo so, magari non è vero, però molto probabilmente fa diventare macchietta, come Thor, che ha fatto diventare macchietta a tutti quelli che ha toccato, poi. Vabbè, ma allora, se l'errore sarà in regia, è un altro discorso, e vedendo la serie lo sapremo. No, ma io non dico, la storia può essere per... Cioè, ci sta che lei sia così. Quello che dico io è che però è nell'MCU dove succedono tutte le robe che succedono nelle altre cose. È giusto così. È giusto così. È giusto, ma non è giusto. Perché nei fumetti, nello stesso momento, tu analizzi Miss Marvel e c'è... Spider-Man ha fatto diventare un rincoglionito Dr. Strange, ma lì già... Quello lì è quello che dice Marco, quello è un errore di regia, cioè non di scrittura più che di regia. Quello è proprio una scelta del cazzo della scrittura. Per quello io dico, guardiamo la serie, se a livello di sceneggiatura è brutto, è un altro discorso, ma il fatto che sia leggero... Per me è una merda a livello di contesto, secondo me. Ma contesto, nell'MCU è pieno di contesti, perché? Ma nei fumetti... Di guerra... Eh, ma l'MCU è una testata a sé. L'hanno sempre detto. È una testata. Quindi è una testata e un mega contenitore che contiene roba. In una testata non è che c'è poi la cosa fiabesca. Cioè, quella è una testata a parte. Ma essendo un mega contenitore, l'MCU contiene più storie, da quelle più crude a quelle più leggere. È sempre stato così, come la DC. La DC è così. Le flash che ha le storie un po' più scansionate, che poi non è vero, c'ha delle storie terribili. Però nei dialoghi un po' più freschi... Non è quello che si recepisce dal trailer, secondo me. Dal trailer? Cosa devi recepire? Devi recepire una ragazza che si sta approcciando ai suoi poteri in una scuola. Io recepisco che è una serie per ragazzi di Disney Channel. Ma no, è giusto. È comunque una serie fatta di ragazzini. No, non è Smallville. Non è Smallville assolutamente. No, è più giovanile. Tu hai detto Lizzie McGuire? A me è ricordato Lizzie McGuire. È proprio Lizzie McGuire come mood della... Ma è giusto che sia così. Cioè, io vi giuro, se vi apro un qualsiasi fumetto di Miss Marvel, troverete questi aspetti. Ma l'errore che cazzo c'entra, certo, ma... L'errore sta nei poteri, perché quella cosa lì la fa l'anterna verde, non c'entra niente con lei. Per quello voglio vedere su un curioso. No, ma non hai capito quello che intendo io. Non è il problema che è una cosa da bambini. Ma il contesto va benissimo. Il fatto è che è una cosa da bambini nell'MCU, che non è una cosa... Cioè, in realtà, per carità, sì, è una cosa... L'MCU è pieno di ragazzi, è troppo per bambini, secondo me, l'MCU. È vero. Troppo per bambini. Pensa adesso come cazzo diventerà, se ci mettono dentro pure... Eh, ma è così, Moro... Eh, ma mi vieni a dire che va bene, dai, fa cagare. Ma no, Moro, deve essere... Non è che va... Ma non è vero, una volta non era così. Deve essere così. Cazzo, Iron Man 1 non era una roba per bambini. Ma Iron Man 1 ha il suo... Ha il suo target e il suo... Eh, no, il target per me... Il mood di Miss Marvel è questo. È un mega contenitore. No, per me l'MCU è il target. Non hai solo comuni. C'hai le rare, c'hai le comuni, c'hai le intermedie. No, non c'entra niente. No, no, è Moro. Allora, questa è una cosa oggettiva. No, non è oggettiva. È un contenitore, ci sono varie storie di vari tipi. Non è vero. Sono così i fumetti. Fine. Non è una cosa oggettiva. No, i fumetti, il film, no. Cazzate. Non è il film, no. Anche i film. No, perché l'MCU è il contenitore. Ma hai Iron Man, ma hai anche Thor Ragnarok, ma hai anche Endgame, ma hai anche Ant-Man, ma hai anche tutte cose completamente diverse. Che però sono tutte nello stesso mood, sono, hanno tutte nello stesso target. Non è vero. Il target può essere simile perché appunto la Marvel non si spinge mai oltre, è della critica che più gli ho fatto. Ma i contenitori sono per storie di tutti i tipi. Tutti i tipi. Ci può essere il killer, ci può essere il cattivo che vuole conquistare la galassia. E poi è chiaro che l'MCU si affaccia a ormai... Esatto, Injuried. Esatto. Non ci si può aspettare che la storia su Miss Marvel, ragazzina fanatica, abbia gli stessi toni di Moon Knight, ad esempio. E infatti, è per quello che non c'entra un cazzo dell'MCU. No, ma non devono essere... Ma è perché sono due storie diverse, ma che discorso sono? Cioè, tu guardi Miss Marvel, Miss Marvel deve essere Miss Marvel. È normale che non è Moon Knight. Eh, ho capito, ma io mi immagino poi più avanti. Ma non deve essere tutto collegato, sono storie... Ma scuola, gli Ezzar, dai, gli Ezzar. Gli Ezzar, basta, anche tu. Però va bene. Fammi parlare. Cioè, è una cosa... Marco, tu mi vuoi dire che poi il Miss Marvel non c'entrerà in nessun altro film? No, non ho detto questo. Ho detto che però, se dai le origini del personaggio, deve avere il suo mood. Non può essere Iron Man 1, è sbagliatissimo. E secondo te poi negli altri film non sarà come in questo? Negli altri film dovranno adeguarla agli altri, chiaramente. Ma in un film sulle origini deve essere così. Beh, ma qui, Moro, questo però è un discorso che devi farlo troppo. Eh, scusami. Ma io non ci credo che poi sarà diversa. No, lo posso sapere benissimo. Moro, ascoltami un attimo. Questa è la serie delle origini. Deve avere il mood di una serie delle origini di Miss Marvel. Se poi lo uniscono a Moon Knight, quello sarà un altro discorso. Ma non penso che lo uniranno a Moon Knight. Lo uniranno poi al resto del... Era per dire, se lo unisci a una storia più matura, avrà l'adattamento in quel contesto. Esatto. No, sono d'accordo, però tu ci credi? Potrebbe essere più per famiglie. No, io mi stavo limitando alla serie. No, no, quello che dico io è che poi... La critica che ho sempre fatto alla Marvel è che non si spinge mai lì. No, esatto, ma infatti stiamo arrivando a un punto di giunzione, perché io sono d'accordo che tranquillamente lo puoi fare, però dopo nel momento in cui quella serie, cioè quel supereroe più che quella serie, va a congiungersi nel filone principale. Cioè immaginati l'MCU come una linea grossa, no? C'è Spider-Man che parte col suo film fuori dalla linea e poi si congiunge. C'è un altro che parte dalla fuori dalla sua... Black Panther e poi si congiunge. Poi c'è Miss Marvel che parte fuori dalla sua linea e poi si congiungerà, perché si congiungerà. Solo che gli altri film avevano un mood più compatibile, secondo me, per congiungersi nel filone principale. Questo qui è fin troppo esterno alla linea per ricongiungersi alla linea. Poi vedremo. Non è vero, perché... Poi vedremo. Poi vedremo, però... L'MCU non ha un tono stabilito, cambia sempre da serie a serie. Allora, è una cosa che... Non sono d'accordo. È una cosa vera. Un pochino è vera, ma non sono d'accordo. È una cosa vera, ma la critica che gli abbiamo sempre fatto, grazie Ericud, la critica che gli abbiamo sempre fatto è che non si spinge mai troppo là. Infatti adesso vogliono fare il reboot di Daredevil e io mi sto cagando d'oltre. Che è successo? Quindi su questo siamo d'accordo. Ma, tecnicamente, tutti hanno il loro mood. Quando si vanno a congiungere, devono essere bravi ad amalgamarli. Detto questo, sono sicuro che non ci sarà un altro in-game con tutti dentro, a meno che non fanno Secret Wars. Saranno tutte storie diverse e difficilmente li vedremo completamente assieme. Ripeto, a meno che non vogliano fare Secret Wars e vediamo. Ma non cambia il discorso che ho fatto all'inizio. Se tu fai le origini di un personaggio, le origini di un personaggio devono essere come quelle del fumetto, se prendi quel personaggio. Quindi Miss Marvel va bene così. Se poi lo uniranno ad Iron Man, a Capitano America, a Spider-Man, anche Spider-Man. Spider-Man inizia il scansonato. Ma Spider-Man è arrivato nella guerra più totale, l'hanno infilato dentro. Ma lui, anche nella guerra più totale, gli facciano fare le battutine e anche in questo caso. Adesso è diventato tragico. Però già era dentro un film con un mood totalmente diverso. No, ma guarda che lui ha i toni, anche No Way Home, ha dei toni leggerissimi, ma poi alla fine va come va. Cioè, è giusto così, ragazzi, fidatevi di me. Non lo so, non l'ho mai visto i toni. Allora, Spider-Man, come dicevo prima, è quello che ha i toni più leggeri tra tutti. Perché è quello più giovane, perché ti fa vedere un pochino la vita anche a scuola con la ragazza. Ma Spider-Man non ha tono tragico, Sir Peggo evidentemente non ha visto un solo video. No, c'è l'ha tono tragico, soprattutto nell'ultimo film, però comunque... E se invece dici di no, voglio che mi dici le scelte. Però comunque è molto più maturo, anche se riguardi i trailer che sono usciti di Spider-Man e gli altri, si vedeva che era molto più maturo. Era molto più maturo, però l'altro, quello che ho detto adesso è proprio... Guardi che per te mi puoi dire, eh, ma magari poi si evolve robe così. Come io non posso sapere se non sarà così, tu non puoi sapere se sarà così. E io sinceramente fatico a crederci, fatico a credere che lei crescerà e diventerà... Ma allora, come... Non è mai cresciuto Spider-Man, per dire, quindi. Porco Giuda, lo so cos'è la trama e il tono. Spider-Man ha un tono drammatico nell'ultimo film, fine. Ragazzi, dovete vedere le cose oggettive, però. Queste sono cose oggettive. Spider-Man nell'ultimo film è tutta una tristezza di merda. Ha un tono triste, fine. Non si può discutere su questa cosa. Sono cose oggettive. Quelli prima no, perché parlano a scuola. Quello che ha detto Moro è un altro discorso. Quello che dice Moro lo posso condividere, perché... Io ripeto, per quanto riguarda la serie... Io conosco il personaggio di Miss Marvel. Per quanto riguarda la serie, va benissimo che abbia un mood così. Come viene amalgamato poi con gli altri film, lo vedremo successivamente. Potrebbe essere una cacata come una cosa che funziona. Dipende poi come si giostreranno le battute in momenti. È quello che dico io. Cioè, tu ci credi che sarà messo bene, quindi. Ma la serie deve essere così. La serie deve essere... Allora, come speranze io non lo so. Eh, io non ho mezza speranza. Cioè, se questa qui è la partenza... Moro, c'è stato Iron Man e c'è stato anche... Iron Man, cazzo, era fighissimo il primo, era. Anche Iron Man era fighissimo, era. Ma infatti, per quello ti dico, sono riusciti a fare una storia un po' più cupa. Ma anche se poi Iron Man, anche lui, c'è i suoi momenti divertenti. È una storia come Ant-Man e le hanno fatte convivere. Ma perché erano entrambe compatibili. Esatto. Poi qua qui è una bambina della materia. Thor ha sbagliato tutto, per esempio. Sì. Nonostante... È per questo che ti dico, secondo te poi andrà a meglio? Quello non lo so. No. Io ti sto parlando della serie. Io ti sto dicendo, su quello vedremo come amalgameranno tutti i supereroi. Non posso prevedere il futuro. Però se parliamo di mood e di fedeltà al personaggio, questa serie, dal trailer, cioè, a livello di poteri, mi devono spiegare... Eh, ma infatti ti dico, c'era bisogno di... Io non li sto santificando, sto dicendo che il mood è giusto così. C'era per forza bisogno di farlo, Miss Marvel, se devi fare una roba del genere. Ma sì, ma perché secondo me è un prodotto di supereroi, ci sono. Ma Miss Marvel ha la sua importanza nei fumetti, per quello ti dico, può starci. Sì, mezzuzzo, diventa sempre più piccola, va alla scuola materna. Moro, anche perché poi se vogliono fare Young Avengers e compagnia bella, ti servono eroi molto giovani e lei è perfetta, perché è una dei capi saldi dei Champion e degli Young Avengers, quindi ci sta. Eh, ma mi facessero una testata a parte se devono farmi Young Avengers con il mood da trasmettere a Disney Channel, però. No, ma è giusto. Ma Moro, l'MCU contiene un determinato numero di trame e di storie. Sì, ma sono tutti sullo stesso molto ampio target. e questo invece lo vedo molto ristretto come target, molto specifico. Allora, il fatto che la Marvel non si sia mai spinta e non sia mai andata verso il cupo, ti può far sperare male per determinati film. Questo sicuramente. Questo sicuramente. Ma, detto questo, l'MCU ha troppo... Non è come Star Wars. L'esempio con Star Wars è abbagliatissimo. Stasera abbiamo tempo, comunque. Sì, no, stiamo parlando. Perché tiriamo avanti fino alle 22, ragazzi, stasera. Anzi, è un bel argomento. Cazzi di Jezzar, tanto è lui che si rompe i coglioni. È una bellissima discussione. Ma io ho troppo vado via. Perché tanto... Tanto. La discussione con Star Wars... Il paragone con Star Wars non è giusto, perché Star Wars va a personaggi, non a saghe o a situazioni... Poi ci sono anche le saghe, ci sono anche i fumetti, eccetera. Però quello non entro in merito. Miss Marvel deve avere un tono. Daredevil deve avere un tono. Iron Man deve avere un altro tono. Ed è giusto che ci siano tante storie e tante trame diverse. Ma andiamo a facci. Come le combineranno quello e un altro discorso? Più o meno poche, non è proprio quello quello che dico. Io capisco la paura di Moro del fatto dell'amalgamare dei miei personaggi. No, quello che dice Cir, più o meno. Moro, bisogna capire dove stanno andando a parare. Che è quello che dicevi anche tu, no? Non possiamo dare adesso il giudizio. No, infatti, è che io ormai ho 30 anni della mia vita. Un'esperienza fenomenale, no? Nel senso, chi vuoi prendere per il culo? Nel senso, non ci credo che poi diventerà una roba incredibile. Cioè, incredibile, non penso nessuno lo... Cioè, pensa che diventerà una roba incredibile. Però non mi prendi per il culo facendomi pensare che è una roba per bambini e poi diventerà qualcosa di più. Anche perché... Magari parte leggera e poi avanti... Magari sì, ma Marco, qui è il copium che parla, secondo me. No, no, a me non me ne frega niente, guarda. Se la devo criticare... Ma perché c'è il declino... Non il declino, nel senso, è diventato una merda, eh. Il declino nel senso... Comunque, Pedro, potrei sviluppare quello che hai scritto in due secondi, ma farei sport. È vero che da quando ha preso in mano tutto la Disney, è diventato tutto molto Disneyesco. Ma è la critica più grande che è sempre fatta Disney. È per quello che dico, secondo me, puoi sperare quanto ti pare. Moro, vai a leggere i fumetti, allora e poi mi sperirei... Non c'è bisogno di leggere i fumetti, perché la Disney non li legge neanche lei i fumetti. Nel senso, non è il problema... Ci sono delle cose oggettive, pego, mi dispiace. Non è il problema... Non è il problema di trama, perché la trama ci... Come dice Marco, quella e la trama ci può stare benissimo. Io dico che... Ok, però è una roba... La trama è sbagliata, tecnicamente non me l'hanno fatto vedere. La trama è sbagliata, il mood è giusto. Però comunque... Mi hanno fatto vedere una ragazza che diventa lanterna verde nel trailer, quindi è sbagliata la trama. Il mood, però, il mood è quello lì. Io, leggendo i fumetti di Miss Marvel, e sfogliandolo, ti rendi conto proprio dei colori. Tu passi da Daredevil, che ne so, l'uomo senza paura, a Miss Marvel. L'uomo senza paura è cupo, ha dei colori tristi. Ma quelli prossimi, i diretti opposti sono. Esatto, per quello ti dico, leggendo Miss Marvel, sembra che stai leggendo Monster Hunter. Ma infatti il prossimo Daredevil non sarà mai come la serie tv. Ma io ho molta paura, sia per quello che Moon Knight, perché sono estremamente... Ma perché secondo me anche Moon Knight non sarà così tanto. Perché tutti i trailer della Marvel sono stati molto seri. Non è questione di concetti, Pego! Non è questione di concetti! È una questione oggettiva! I toni sono tristi! Fine! Veramente non l'hai visto, No Way Home, Pego! Pego, è una cosa oggettiva! Tu mi puoi dire che ti piace o non ti piace a livello soggettivo? A livello oggettivo! Cioè, se ci sono due battutine nel mezzo del film, non è... scansonato! Non l'hai visto bene, non l'hai visto. Non posso fare spoiler, Pego, però la fine di Spider-Man... Ma non è la fine, è tutto il tono tragico che può avere. Tutto quanto ti butta delle bombe è l'ultimo film di Spider-Man, che non puoi dire che è oggettivamente scansonato. È scansonato rispetto a un film... È scansonato rispetto a un film di Tarantino, magari, però non è scansonato, nel senso... È un cinecomic della Marvel. Ogni tanto ci sono le cazzatine, fanno le battutine, ma non è scansonato. È comunque un film della Marvel che va su quello, ma a livello oggettivo, i toni del film, nella parte finale, tu hai... Ma intendi il cazzo, però, perdona, mi pego, eh... Scene buie. Succedono cose terribili. C'è un... Non posso dire niente. Perché veramente potrei spegnere quello che hai detto col finale del film, ma è il finale del film. Non si può fare. Poi, se ti sia piaciuto, non ti sia piaciuto, è il sacrosanto diritto di dirla tua. Ma a livello di... Cosa succede a livello oggettivo, è una cosa... Così. È chiaro che li devi tenere nel contesto, comunque, cinecomics. Non è che li puoi andare a paragonare al... al film d'autore. Io non sto difendendo nessuno, sono il primo che critica la Marvel. Seguite la live di J.T.A.S. Marco, sei il primo che... La live di J.T.A.S. Un fumarco terrificante. Lo so, scusami. Non sentiti a posto. I capelli terribili. No, allora, nella live di J.T.A.S. Io sono quello che su What If le ha dette di tutti i colori. Quindi, io, quando c'è da parlare... Ma non solo. Cioè, Ragnarok e tutti. Assolutamente. Ma la maggior ragione è che leggo i fumetti, ragazzi. Non è vero, Becque, Will. Io che leggo i fumetti sto messo molto peggio di voi perché ho noto un sacco di cose in più che mi fanno innervosire. Ma questo è un altro discorso perché non puoi neanche... Non potrà mai fare... Beh, gli eserentano a fare un gioco. Va bene? Sì, perché adesso state un po' divagando e sta diventando un Marchetti, quindi non ha senso. Va bene. Ah, tranquilli di Tom Holland? Sì, non tutti... Non gli Spider-Man. Però lì sono d'accordo. Il primo Spider-Man era scanzonato. C'è anche a cagare. Sì, lì non ci sono toni drammati. C'è anche a cagare. L'ultimo, sì. Non l'ultimo, il primo. Vabbè, al te non ti è piaciuto. Ok, quello va benissimo. Voltoio, ma che cazzo è la voltoio? Il testensivo è leggero, Massimo. Sono qui con le ali, ma vaffa il culo. No, no, Becque, tu stavi parlando di toni. Tu addirittura hai detto eh, ma dovete distinguere trama e toni come se noi non lo sapessimo quando eri tu che non lo stavi capendo, però. Perdonami. Il tono e la trama so benissimo cosa sono. E i toni dell'ultimo Spider-Man sono, non per tutto il film, ma sono molto giù. Sono bassi i toni di Spider-Man perché succedono cose che lo portano a essere in quel modo lì. Addirittura il finale è una delle robe più tragiche dell'MCU. Poi che l'MCU non si spinga mai oltre ed è fin troppo ed è fin troppo leggerino e per famiglie. Prova a metterla, magari per la musica, no? Sono il primo a dirlo. Io non stavo difendendo Miss Marvel, anzi, come ho detto, c'è qualcosa che non mi quadra. Però a livello di mood, ragazzi, se non sapete chi è il personaggio, taccete. Io ho letto delle robe per dire ma adesso questa ragazzina ma cosa sto guardando? Ma ragazzi, se non avete letto le storie, non sapete chi è il personaggio. non mi ispira, non mi ispira, ma non è per quello, è che io posso capire, ci sta. Ma se mi dici non mi ispira, io ci sta. Non è che non mi ispira. Però se mi... ho paura che potrebbero inglobarlo con gli altri film, è una paura che ci può stare, ma il mood del trailer rispecchia il personaggio, ragazzi. No, vabbè. Così. Eh, però... Ho paura di volere una malda. Infatti, quello che dico io è che... Eeeh... Non... Stai... Non lo fa. Vabbè, quella è una tua opinione, si sta. Io ti dico, io lo volevo invece, perché un personaggio secondo me può dare... può dare molto scopo. E poi ripeto, ripeto, dove in tutte le altre... in tutte le altre parti dove l'ho visto, grazie, Lucotto. Non era una dodicenne, era comunque un pochino più... Non è una dodicenne, ma infatti non è all'elementaria, che non sarà... Era l'elementari, Marco. Ma no, sarà molto... Adesso non so che tagli vogliono dare, ma molto giovane. Scuola materna. L'ho vista all'attarla. Se legge una storia... Una storia sua è così. Eh, ma nelle altre robe dove l'ho vista, invece, non era mai così. Dove l'hai vista, tu? E anche nei giochi. Quella dei giochi, per quanto sia... C'è solo in quello degli Avengers che ha la profondità di un peto quel gioco, quindi la sa perdere. Eh, però... Però comunque... Lei è comunque una ragazzina fan dei fumetti che fa le battutine quando vedi costumi che fan girl. Però non è la... Però non ha 12 anni. Cioè, ci sta che... Ma 12 anni? Anche Peter Parkett fa il fan... Parkett fa il fan delle robe. Però non è un dodicenne. Streamer mode, proviamo a metterlo. Se sono con Moro, potevano scegliere altri eroi... E che ce ne sono tanti, secondo me. Non c'era più... Ma... Perdonami, quello però è un altro discorso. Morenix, grazie. Grazie, Morenix. Cioè, quello è una cosa vostra. Faccio la partiz. Io in quello non vi posso... Io in quello assolutamente... Cioè, se voi mi dite avrei preferito altri personaggi... Io mi dico... Che cazzo di nome è l'ultimo a cui l'hai regalata? Morenix. No, non c'è il... Il pitolo d'oro. Eh, purtroppamente. Grazie, Morenix. Cosa sarà Host Game Legacy Host Game normale? Beh, fai play... Vabbè, copio qua... Vedi che bravi che... Ah, streamer mode censurerà il codice. Ci sono due oracoli. Ve lo metto, adesso ve li faccio, ragazze. Vabbè, ma Ricky... Ricky, il fatto è, se una persona non ha letto i fumetti di Miss Marvel, non sa chi è, stiamo parlando nel nulla. Cioè, quello che dico io è, se tu mi dici avrei preferito un altro eroe, ma io chi sono per dirti di no? Cioè, è bellissimo. Ti ripeto, a me mi sta bene che... Dal momento che l'eroe è questo e il trailer è così, se non conosci il personaggio, poi non... Ma io non mi lamento che non è così. Non dico te, Moro, dico in generale. Però, secondo me, non ci... Appunto, non c'ha zecca con il resto del... Di come è stato sviluppato adesso l'MCU. In quel... Cioè, questo eroe qui, se è così che è scritto, va bene, però non c'ha zecca con il resto dell'MCU, secondo me. Vedremo. Non ci credo che sarà qualcosa che c'ha zecca. Vedremo. Lo li vedremo assolutamente, eh. Ma come ci sta che preferiate altri personaggi che vengano trattati altri personaggi? Però ti dico, lei è un bel personaggio che può fare degli spunti molto interessanti. C'era Bohemian che diceva Oraculo, ho regalato la sub a Johnny Cazzo di Gomma o Vulva Verace? Non mi fai rispondere. Come ti... Cerca ancora. È sbagliato. È sbagliato. È sbagliato. Sbumba, sono perfettamente d'accordo con te. Miss Marvel è molto azzeccata per un sacco di cose. Poi c'è Diablo che chiede Potente Oraculo, riuscirò ad andare a quel cacchio di Modena Play quest'anno? Muoviti contando sulle tue forze. Sai che verità è il cazzo? Deve andare a Modena Play. A questa risposta, però... Sì. Dai, ce la farai, bro. Vai così. Comunque, io non difendo... Cioè, io non sto difendendo nessuno. Io, te lo ripeto, essendo in prima linea sono il primo che cazzia, eh. Io stavo semplicemente... Mi riferivo a chi parlava del mood quando non è... Probabilmente non sa chi è Miss Marvel. Vedi? L'ha regalata un terzo, giusto? Molto bene. Ha ragione di cazzo di gomma. Ah, no, è un euro di due. Marco, entra intanto. Eh, sì. Lo fa cagare, ragazzi. Vedete vedere il trailer e lo fa cagare. Come farà cagare stasera Harry Potter? Adesso vedrete stasera come ci bruciano il culo a tutti quanti. Io lo dico. Come Miss Marvel sono lì, eh. in punta di piedi. Eh, c'è solo questo, gli Ezzer. No, non è vero. Ce ne sono veramente un botto in realtà. Ma infatti le faremo di quanti per cultura, ragazzi. Level not installed. C'è il Millennium Falcon, gli Ezzer. Ma perché... Ma quindi c'è il workshop? Eh, sì. Ah, ne hai regalato tutte e due, ok. Giustamente. Come c'è stasera di Potter? C'è lo State of Play alle 22. Alle 22 ci guardano lo State of Play. Andiamo avanti fino alle 22 in live. La pietra filosofale. Vabbè, partiamo con... il labirinto dell'Egitto. Facciamo con il tutorial. Facciamo con il tutorial. Tutorial? Vai, vai. Ma sentate a doverla poco. Eh, adesso vedi. Toda la sera qua, inculati. Il The Ring fa cagare, ragazzi. Adesso me la prendo! Il The Ring non fa cagare! Sì, ho detto Play Live facciamo. Avete capito? Che molle! Il The Ring è bello! Che cazzo è bellistic! È il gioco migliore! Ma il tutorial è proprio... Sì, ma il mouse è immerso... Ma è liquido il mio mouse! Ma scusate, sono in una staccia. Tanto cielo off. Tutto. Ma io l'ho già tolto, il visinchio. Ah, si possono trascinare le cose, ok. Tanto cielo, terribile. Camera off, target frame rate. Tanto bellissimo. Ma perché i frame sono 60,45? Vabbè. Come faccio a togliere sta merda di mouse? Non può essere così. Ma è ancora molle! Auto Antimotion Sickness. Reverte. Ma scusa, Auto Antimotion Sickness me lo metti in 4 terzi. Ma che è? Use Letter, Decrease Brightness, Movement Speed, Zero UI on Levels. Ah, sembra abbastanza evoluta per essere... Maglizar, ma io non sto capendo come faccio a muovermi. Control. Mouse Smoothing. Togli, porca vacca. Dove, 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 dove? Su Control. Non devi andare su Opzioni. Devi andare su Control. Ah, ok. Fanculo. Ho finito il tutorial. Guardate. Oh, va che bel gioco. Grazie, Natiker. Ragazzi, Natiker. Grazie, Natiker. Va bene, il tutorial. Esco. Ah, puoi spostarle cose. No, è fighissimo. Bellissimo. Ma come le puoi spostarle? È veramente fatto bene, tra l'altro. Ah, nel risotto del tuo collettino, come le ti get 10 cubi. Ah! Ah! Oh, madonna. Eccone. Ah. Beh, dove, dove lo metto? Cos'è Press the Red Button? Eccolo qua. Ah. No, perché nello smoothing del mouse è uno stronzo, palesemente. La grafica io l'apprezzo. Caruccia, comunque. Avete visto? Come i bimbi piccoli ho messo le formine nei loro posti. E adesso... Prendo 10 cubi. Prendo 10 cubi. Prendo 10 cubi. Ah, ok. Posso... 2,7 cubi. Cosa... Come erano il codice, jizzer? 2,7 cubi. Grazie. Magari è diverso, eh, però... Vediamo. Vediamo. Adesso vediamo. No, no, è uguale. Posso. Ho vinto. Basket Marco! Ah, vuoi dire? Voi dire, voi nel players. No, ho rubato una palla. Come la tirano? Ah, ne basta tenere premuto. Noi siamo dei giganti, secondo voi? No, è che stai volando, semplicemente. No, non è vero. Tu stai volando. Ah, no, il control ti abbassa. Ok, sembra che volavi c'è lì. Grazie, Vash. Ma vuoi tirare il volo del players? Ma ci siamo tutti o...? Amici, rinnovate, mi raccomando. Non ho capito se ci siamo tutti. Non lo so, ma io sto facendo le cose. Io ho fatto canestro. L'ho rifatto di nuovo, ragazzi. Sono un campione. Metto anche le formine, guarda. Ci ho altri angolini, guarda, eh. Eh, non si infila? Oh. Oh, ciccio, ma avete insegnato che il triangolo va nel triangolo? Adesso non potete cambiare le carte in tavola, eh? Incazzo. Non entro. Rimane storto. Sto giocando... Ok. Non ho capito. Marco, non riesci a mettere le formine nei quadrati del buco? No, no. Rotate la box e trovare un posto per usare le carte in tavola. Eh, ruota il box. Eh, non la... L'è qua, eh. Cosa vuol dire, qua? Sotto c'è il buchino. Eh, trascino la chiave. Ah, stavo cliccando col tasto sbaglietto, mi sa. Infatti, non si può saltare, ragazzi. No, aspetta, ho sbagliato qualcosa. Cazzo, bambino! Come buono lei! Ah, sì. Perché non entra questo triangolo? Ma se sono veramente interessanti queste qua... Cioè, se è fatto bene potremmo farlo volete tante volte, perché ci sono volete tante escape, abbiamo visto. Potrebbe essere interessante. Ma scusa, va in quel coso d'azzurro, no? Nel buco? Sì, no, sì. Perché non funziona? Ma scusami, eh. In che senso non funziona? C'è un buco, quindi quello è per forza. Eh, la chiave l'hai estratta. L'hai estratta? Ce l'hai nell'inventario sotto. Ce l'hai nell'inventario sotto. Trascinala. Ma ce l'hai in mano? No, non devi avere in mano la chiave, devi traccinare. No, ce l'hai in mano, clicca la serratura. Ma no, ma lì è dopo, penso che hai saltato tu perché ti hai detto il codice. E metti il codice, Marco. Io il codice non ce l'ho. Ma meglio, è uguale al mio, però... No, lui è ancora quello della chiave del baule all'inizio dove... Allora, hai la cassa in mano che la vedi con la barra spaziatrice? No, Liezar, lui è il primo step. No, 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 non credo. Sì, io sono al primo. Devo mettere il codice. Allora, non sei al primo. Allora, c'hai il codice, ok. Devo mettere il codice. E non lo so qual è il primo. Allora, prendi sta cavolo di cassa blu in mano. Con la barra spaziatrice, ok? Te l'hai inquadrata. Girala dove c'è il codice. Ma l'ha trascinato. Eh sì. E no, io la mettevo in mano e mi spariva la cassa. No, no, ti impraccinava. E mi spariva la cassa. Ok. Ragazzi, non entra. Questo triangolo non entra. Nienche canestro con i cubi si può salvare. E non dice che devi trascinare. Marco, ma sei pirla. Sì. Ma questo va a bifo. Sono cieco. Ma siamo tutti assieme? Sì, ma siamo veramente giganti. Ma siamo diversi, però. Voi siete... Moro è un uomo elegante con i baffi. E Liezar è un uomo con i capelli verdi. Dove essere rassurato, dove essere. Sì, invece tu sei un'Indiana Jones donna con i capelli rosa. E lì. Ma perché? Ma lei mi ha fatto te, lei fa. No, non l'ho fatto io, assolutamente. Non sapevo neanche se potesse personalizzare. Allora, Marco. Che lo dobbiamo fare? Ho rubato un... Aspettate un attimo. Ma è simpaticissimo questo cestino. Allora, lo prendo e dentro non c'è niente. Aspettate che abbasso un po' il volume. Allora, aspetta. Allora, io ho trovato questo coso. Io sto buttando via tutta la spazzatura. Come si personalizza il personaggio? Che dopo lo faccio. Allora, c'è una chiave sotto il cuscino. Fai vedere. Ah, è vero. Eccola. Una chiave del Kiri Kiri. Dove la metto? Qua c'è una scatola, quella che usa Jack Nobile per fare i video. Cosa devo caricare? Fai vedere se si può ruotare. Secondo me è quella scatolina lì. No, non c'è niente. Mi diceva solo... Aspetta. Attenti che c'è il tempo. Ah, 13 minuti. Ho preso un token. Questo è da achievement il token, mi sa. Ma sta nevicando fuori. Spennare il lino. Look at... Aspetta, ok. Guarda l'oggetto e premi spazio per esaminarlo. Ok. Allora, noi siamo... Aspetta, abbiamo la chiave, no? È lì. È qua, qua sul coso. Ma è la stanza di Andy con le coperte di Buzz Lightyear. Ma è il gioco delle formine. Ho trovato un altro token. Va, che occhio. Siamo agli oracoli. Questo qui è... No, ma ancora... Aspetta, ragazzi. Ma porca misura. Eh, aspetta, gli Ezzar. Ah, no, pensavo che... C'è Seneri che chiede Mi salverò anche questa volta il culo dal Covid con il tampone che devo fare sabato? Personalizza il tuo discorso. Eh, Seneri, finché vai ai Covid Party io che cazzo ti devo dire? Qui c'è un quadro con una... Ah, vedi? Ah, un altro token. Ah, bravo, bravo. Ah, non si può saltare. Questa sarà una cosa fastidiosa. Ma Winding chi si chiama? Winding. Eh. Winding. Wendigo? Winding? È il verbo... Un altro token, ragazzi. Ma i token credo siano i collezionabili. Sì. Ah, qua? Ah, qui c'è un altro token. Aspetta, fammelo prendere. Rack. Ce n'era un altro, ce n'era. No, che fanno che... Ce n'era due in fila, era. Ah, ma questo è l'indizio, è... E quello è quello che ho già preso. Ah, da sempre lo stesso, scusami. Ah, il punto... Il punto rosso è l'indizio. Ah, la macchina che ho buttato via, aspetta. Quella che c'era le cestine. C'è una cosa incredibile dentro la... Dammi il... Dammi il pertugio, il lizard. C'è la chiave, io. Dammela. No, aspetta, la tengo io. Aspetta, dammi la macchina. Qual'era? Eh, questa. Dove l'hai messo? Ok. Ah, ok, va bene. Ma non vedo se... C'è aperta, vedo tutto. Posso vedere, posso cliccare anche su di te e vedo in realtà con la frecchina quello che fai tu. Ma è incredibile. E prendi sta cazze chiave, glielo. Gli ho trovato un altro, ragazzo. Eh, è bellissima. No, l'ho presa io. Ok. E... Dovremmo uscire, no? Eh, sì. Ok. Che paura terrificata, che muovere? Cosa fai? Ma eccomi qua, sono Roby. Che fai? Ma anch'io vedo voi ballare. Sì, ma tu balli come un imbecille, però, a differenza. Come si guarderà? No, ne mancavano due. Ne mancavano due di collezionare. Peccato, peccato. Esco al menu. Ne ho visto uno mentre c'era la telecamera. L'hai incastrato nel letto dietro. Vai, first chamber. Vai. Mi sa che alcuni dobbiamo scaricare dal... No, ce ne sono un botto già di base. Sì. Vabbè, però, magari. Ma però sembra fatto veramente bene, comunque. Allora, un culetto. Si può restare e continuare a cercare, va bene. Marco, qui c'è una valigia. Guarda, guai a te se la tocchi, eh, che la apri sicuramente con qualche metodo. No, no, no. Ah, ok, qua c'è... Ah, ma questo dà gli indizi, ok. Aspetta, c'è un token. C'è una sfinge... C'è una sfinge con un simbolo. Io ho preso l'acqua. Se ci avete sete, chiedete pure, eh. Ci mancherebbe. Grazie. Empty. È vuoto questo. Ma c'è il tempo! Abbiamo 14 minuti, rega. Eh sì, anche prima c'era. Oh my shit! Come anche prima? No, mi fa l'ansia. L'indizio... Egiptology 102, il libro. Diceva di guardare la sfinge. Sì, e c'è il simbolo sulla sfinge. Ok. Un simbolo cos'è? È una specie di... Come una chiave. Non lo so, sì. È un rettangolo con una specie di serpente. Ah, ma aspetta, il libro si può aprire. Dentro c'è tutta la roba. Il rettangolo con il serpente, dici, eh? È una... No, ma in realtà non è un serpente. Ho detto, è una roba... Marco, puoi cliccarmi per vedere. Oh, geroglifici. Chiudo il libro. Lo riappro. Allora, era una cosa dritta sopra. Sembra una... Non c'è. Ah, quello lì. Dizionate il lievito. Darkness. È quello lì, è il darkness. GRH darkness. GRH. Ma c'è NSV. È per il porno, quello. Lascia stare, lascia stare. Tanto ribalto ste assi che... Qui, sto buco, ci metto il pisello. Eh, ma darkness cosa vuol dire? Eh, qua c'è l'oscurità, gli ezzer. Eh, sì. Ci devi mettere la sfinge. Ah, perché mi fa prendere la pala? L'ho messa, gli ezzer, nella darkness. Adesso è diventata dorata. Ok. Adesso c'ha il fiume. Sì, c'ha le tre ondine. Tre ondine. Dov'è il libro? Ce l'ho io, ce l'ho io. Meve Walter. Va messa nell'acqua. L'acqua, ce l'ho io l'acqua. Qua, 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 l'acqua, qua. No, quella è una granata, no? Aspetta, questo... Ma che granata, gli ezzer. E sembrava una granata, vista la lontana. Ma le granate. Un triangolo delle bernude. Eh, i pezzi per terra, forse. No, aspetta, non va... Ma dici che è un singolo pezzo di questi, no? Qui c'è un gioco, però, da fare. Mauro, posso aprire la valigia? No. Ma quanto è piccola questa valigia, perdonami. Voglio aprirla. Eh, come sia? Aprila. Apro io. Vediamo un po'. C'è dentro il covid. Ah, c'è il pennellino, la spatola. Rubo tutto, rubo tutto. Ma ragazzi, aspetta, aspetta, guardate. C'è un altro libro? Prendo l'altro libro io. Ma che ti sto montando la piramide, io? Dove cazzo l'hai preso quest'altro pezzo? Era per terra e questo è l'altro pezzo che è comparso. Com'era per terra? Era lì per terra, era qua giù per terra. Ma io ti tiro un sasso e ti tiro. Vi poggio le cose che ho trovato nel... Marco, spennella qua, intanto. C'è un occhio, Toro. Dov'è? Qui sotto, lo vedi? Eh, lo so, so. Quando la scat... Il pennello l'hai buttato a terra, maniaco sessuale. Dov'è che devo farlo? Qui, qui sotto. Questo va rotto. C'è una... Ma perché me lo tira? Aspetta. Come? No, non si può spennellare. Ma ha buttato tutto per terra. Chi è sto stronzo? Sono traduzioni geloblifiche vere, tra l'altro. C'erano proprio... Ecco. Ma sta spaccando tutto. Ok, manca l'ultimo. Dammi sto cazzo di pennello che sei uno stronzo sei. Credo sia questo giochino qui. Come si fa a fare con la cosa lì, Moro? Eh, lo prendi e lo fai. Eh, ma a me lo tirava fortissimo. Ma perché lo metti qua? Lo tiri se lo metti qua. Brutto è un stronzo. Credo sia un... Credo sia il codice per questo. Fammi vedere... Fammi vedere l'altro libro qua, cosa c'è. Eh, eh, sono qua. Eh, 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 vedi, vedi, vedi. Edi, vedi, vedi. No, io non lo vedo. Ah, ok, adesso sì. Allora, aspetta. Eh, dimmi... Eh, aspetta, ti dico io. Allora, l'omino... Il Pac-Man. Ok, sì. Mille. Poi ci sono le... Tre righe sopra in verticale più l'ondila del vento sotto. Tre righe verticale è tre. Però non aspetta, qui perché... Ti spiega anche come formare i numeri. Porca bestia, ragazzi. Aspetta un attimo. Eh beh, è tipo i numeri romani. Uno, due, tre, quattro. Credo sia una specie di numeri romani, però... Allora, è 300. Quello credo sia 300. Cosa? Ah, tipo l'ondina... No, è 103. No, scusa, 103, sì. Più. Sempre il vento sotto con una U al contrario. Il vento sotto... Aspetta qua, se questo qui è 1205, sarebbe... Mille... Ma il mille è il... Duecent... No, questo è due. Centomila, Moro. 1200 perché due, due, tre... Cinque, vabbè, è una cazzata. È da addizionare... È semplicemente da addizionare tutto, eh. Quello lì, tu fai... È da addizionare... È da addizionare tutto, semplicemente. Quindi è vento che è cento, più il... Scusa, aspetta un attimo. Qui è mille. Più cento? Mille, tre. Tre sei. Qui uno, due, tre, quattrocento. È tremila. Le U cosa sono? Le U sono dieci, le decine, quindi. È tremila... Quattrocento... Ventisei. Eccolo là. Sono o non sono? Capitano Uncino. È la chiave, mi ha dato una chiave. Ricorda un po' le live bomba... della bomba collino, ma tu sei pazzo. È ma la chiave? La chiave non serve, butala via. Ah no, è per aprire qua. Ah, vedi. I soldi, i fottili, i fottili. C'è anche la piramidina. Prendi tutto, prendi tutto. Prendi tutto io. Marco, vai via, eh. Io non ho preso niente. Ti sta bene, stronzo. Eh, ma questo è uno su. Ah, ah, dobbiamo scegliere dove andare? Marco, vai, scegli questo. Ecco, proprio la peggiore ha scelto. No, quello era... No, cosa devo fare? Dove si va? Ma è un labirinto. Dovete mettere voi. Perché c'è un labirinto? Oh, ma è sì, teccolo. Vabbè, a sto punto. La... Lo posso vedere? Potete fare solo in due. Come? No, io non sto guardando. Ah, no, vabbè. Ti dice... Ma è un labirinto, ragazzi. Eh, ma la parte sopra? Eh, cosa devo fare con il labirinto, perdonami. Cioè, ti dà l'indizio di come iniziare, ma il labirinto è una cazzata. Ma se tu muovi queste cose qua, che succede? Eh, ma come lo muovi? Nel senso, come... Ah, forse devi mettere... Cosa fare prima? Quindi il primo sarà... Grazie, Andre. Questo. Allora, spinge... Ah, ok, aspetta. Che è che è un leone, però. Grazie, Andre. Grazie, grazie mille, è bello. La gonna. La gonna. È una gonna, quella. Ah, sì, ok. La gonna, poi il quadrato... Il quadrato e quell'altro in verticale. E la mano che ti prende a schiaro. La mano, sì. È uno un cactus, in realtà, però... Marco, quale faccio? Dai. Fai questa qui, dai. Marco, la peggiore hai scelto. Ma hai capito? Allora... Qual è il criterio? Qua c'è il pesce. Cazzo, Jackson. No, cos'è quella cosa... Eh, no, aspetta. No, no, aspetta. Questo si parte dal centro, vero? Eh, ma è diverso, ragazzi. Grazie, Jackson. Ci sono tre spazi, ma le immagini sono... Sono fuori, sono. No, ma non importa. Perché una non è andata usata. Due non vanno usate. Ma anche di là ce ne erano di più di immagini. Qua sono cinque, lo spazio è tre. Eh, sono tre. Ah, forse bisogna far vedere quali sono quelli giusti. Allora, il cane, il... No, il gatto. Quelli che arrivano al centro dobbiamo vedere, ragazzi. Allora, quello in alto a sinistra non porta da nessuna parte. Ok, quindi non è. Deva le mani, dietro, vai più indietro, mi dai fastidio, ragazzi. Io non vedo nulla, ragazzi, vabbè. Allora, fate voi. Mi state baciando io. Quella in alto non serva a nulla. Ma neanche quelli in basso vanno da nessuna parte, è o sbaglio. Eh, ma ne bisogna trovare quello giusto, credo. Tre, tre sono, ragazzi. Ma sono tre, bisogna metterne. Quindi o state guardando male? Se parto dal centro, vado qua. No, dovete partire da lui, non dal centro. Eh, ma di solito il labirinto si fa al contrario. No, devi partire da lui perché... Allora, l'ape funziona. No, davvero? Sì. Come no, come sì? Non c'è l'ape però, ragazzi. Che figura di merda. E la prima fila non c'è l'ape. Va bene, certo. Vero funziona. Forse stiamo sbagliando, allora. No, ma non c'è l'ape qua, ragazzi. Ma non c'è niente di quelle cose lì che si sono sopra, aspetta. C'è qualcos'altro da fare, allora. Ma non c'è niente delle robe che ci sono sopra, ragazzi. Sei minuti. Marco, ti ho detto che era il peggiore. Ah, questo è il cestino. Intanto io sistemo, eh. No, questi... E' il fatto che non ci sono proprio alcune figure, quindi non sto capendo. Non è che dobbiamo vedere questo e mettere lì... No, non c'entra niente, non ha senso sta roba. Il gatto... Sono proprio figure diverse queste qui. Aspetta, ho preso un indizio. La prima... Quello che ho detto io, all'alto sinistra c'è una X, quindi non porta da nessuna parte. Ti puoi girare verso di qua, gli Zarker, che almeno non posso vederlo. Eh, ma dice che non porta da nessuna parte, come avevo detto io. Destroyer, cazzo. Ho rotto un vaso. Sei uno stronzo. Magari c'è dentro token. Aspetta, però... No. Il gufo, perché il gufo? Forse dovete segnare quelli che non arrivano al centro. Ma non ci sono le figure, mi sa, ragazzi. Esatto. Alcune figure non esistono proprio nel... Gli ultimi due sotto non portano da nessuna parte. Si attaccano tra di loro e basta. Ma non ci sono le figure che ci sono lì sotto. Eh no, sono diverse. C'è qualcos'altro che siamo persi, ragazzi. E neanche qua. L'unica che esce è l'ape. L'unica che esce è l'ape. Oh, mettiamo tutto ape. Eh, vedi. Non c'è l'ape. Eh, lo so. Mi ha dato l'indizio. L'ape esce, quindi... Non c'è l'ape proprio nelle figure. Non so cosa vuol dire. Il libro moro, dicono. Che libro? I simboli. Magari qualcuno vuol dire l'ape. Magari uno... No, c'è. Non è questo. Aspetta. È l'altro libro. Ma le scritte che abbiamo intorno significheranno qualcosa. B, B... Eh, grazie. B, J, T. Ah, B, J, T. Piede... Arca bestia, l'ape. Piede serpente. E... E... E tetta. Piede serpente. Arca bestia. Marco, lo c'è. Marco, quattro minuti. Porca miseria. La plepe, la plepe. Via. Ok. Dai, al pelo, eh, questa. Bello, bello. Io non ho capito cosa avete... Non ho capito cosa avete fatto. E allora, semplicemente c'era scritto... L'ape ha tre lettere in geroglifico che ha quei simboli lì. Ok. Facciamo stay e andiamo avanti. È fighissimo. No, stay in realtà è solo... Abbiamo trovato solo due... Cioè, stay, rimani qui per cercare le robe. Ah, dici? Per cercare i token. Saranno dentro le robe che abbiamo aperto. Erano lì. Sembra molto bello, sì. È molto, molto bello. Sembra molto bello, sì. Ah, ragazzi. Più che altro funziona... C'è un gioco vero, più che altro. Sì, funziona molto bene. Oltre tutto. Aspetta che abbiamo... Sempre 15 minuti abbiamo, ok? Allora. Adesso mi ha mosso qua in questi punti, ragazzi, sicuro. Perché è pesante. Allora, io... Mi va trascinato... Ecco qua, vedi? È così. No, no! Aspetta, aspetta. Polmone, fegato. Ci accendano. Fermi. Eh, dici, è troppa roba. Togliete, toliete. Non si accende. Eh, si è acceso, ma mi sa che non... Io sistemo un po', eh. O vanno accesi in un modo... Se vedete, c'hanno le figure dentro quei vasi, eh. Secondo me questo va rotto. Allora, polmone, fegato... Cos'è? Milza? Ma qui c'è un foglio. Eh, l'ho stappato, va bene? Se l'ho stappato, ragazzi. Eh, eh. Una pergamena. Eh, leggete quello che ho a mano io. Ho una chiave, ragazzi. Eh, che cazzo devo leggere? Ok, ho una chiave. Eh, allora, ci sono polmoni. Allora, aspetta. Eh, mettono per mummificare. Allora, mettono per mummificare. Devo ruttare. No, mi tolto il pippo. Rifammelo vedere, Liezar. Che fai? Io sono fermo, non sto toccando nulla. Allora, i polmoni sono... Liezar, basta, smettila. Non sto toccando, no, no. Non sto toccando, no, no, stai fermo. Eh, the baboon-headed god representing the north. Il baboon... Il baboon cos'è? La scimmia? Non so, amore. Il dio con la testa di scimmia. Eh, deve guardare verso nord. Ah, è l'ordine? Sì. Polmoni, reni... No, 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 ti dice proprio... No, non è niente. Ti dice... Allora, Happy, la divinità con la testa da baboon, credo sia il babuino. Sì. Rappresenta il nord. E sono i polmoni. C'è la bussola che punta al nord qui, eh. Dov'è? Eh, ce l'ho in mano io. E dove punta? Fa vedere. Che punta... Il nord è di qua. A destra, tipo. Quindi il nord è questo. I polmoni quindi van bene. Porca bestia. E i polmoni in realtà van bene qua. Ok, poi. Dei jackalhead... Vabbè, lo stomaco è est. Il fegato è sud. È il sud. Quindi... Ragazzi, cosa ho trovato io qua? Ma è giusto, eh. No, aspetta. Est è destra, sì. È giusto. Est è di qua. È giusto, quindi. Polmoni. Che fai, tu? È un'altra cosa, questo. È qua, c'è un percorso da fare con lo scaraffaggio. Ma abbiamo... Non è che abbiamo sbloccato qualcosa quando abbiamo fatto quella roba lì e non ve ne siete accorti. Ma ragazzi, io ho la chiave di questa cosa, eh. È forse quella, allora. È quella chiave lì, allora. La chiave che avevi trovato tu prima, mi sa, era già fatto. Eh sì, non l'avevo visto. Ok, c'è la testa del babuino che va quindi qua nei... nei polmoni. Ok, questa è un'altra testa, ragazzi, è il falco. Sì, il falco gli... Ah, scusami. Non lo metto? Marco, Eliezer, guarda la roba di prima, al posto di ciullare le coppe di vino qua, eh. Devo guardare? È sempre il foglio di prima. Non dice più... No, no, dice, dice. Allora, il... Jackal, il... Umano... Allora, lo sciacallo e lo stomaco, l'umano e il fegato... E lo stomaco, ok. E il... Ma va girato in un certo modo? Il falco e l'intestino. No, non credo. Ah, il falco... Ma questo è il falco, quello che emano io il... Sì, sì, sì. Ok, quindi va lì. Stomaco... Eh, bisogna trovarle altre testa. Ah, qui bisogna fare il peso. Il peso della giustizia. Oh, scusate. Che imbarazzo. Oh, porca miseria. Perdona, Memuccio. Qui... Ah, bisognerà mettere... Metto le palle in mano allo sciacallo? Ce n'è ancora i libri? Ci sono dei pesi lì sotto, eh. Qua sotto. Ah, sì. Ah, per mettere... Uh, ce l'ho fatta. Vai. Cosa hai fatto? Ho aperto la barra, c'è dentro una giara. Come hai fatto? C'era un percorso da fare lì. Ho trovato un pisello, ho trovato io. Ah, non si può... Questa la doveva messa, però. Va pesata? Eh, non lo so. Ah, no, il cuore. Hurt, c'è scritto. Sarà qua sopra. Dove era il cuore? No, bisogna pesare il cuore. Di solito non è il peso del cuore... Ma io ho Liezzar... No, casca Liezzar. O forse devi mettere tutte le palle da una parte e il cuore dall'altra. Eh, infatti. Prova a vedere. Magari sì, devi pesare... No. No, bisogna trovare il peso giusto, probabilmente. Vabbè, tu fai il peso. Intanto guardo... Questi disegni non sapremo mai cosa vogliono dire. Ma questo è il cuore, ragazzi. Questo è il cuore. Ma questi li hai già fatti, questi qua su. Vabbè, sì, perché erano quelli che ha fatto male. Liezzar, guarda. Di questa immagine qua, il cuore. È il cuore e quello di fianco. E l'altro pezzo, che è un po' mellino. Però questo qui è il cuore. Non diresti mai. Il cuore deve essere più leggero di una piuma. E questo che cos'è, ragazzi? Porca va... Bisogna trovare la piuma, mi sa. Questo, secondo voi, è un cuore? Aspetta, mi è caduto il cuore, Marco. Aspetta, però. Le palline hanno i simboli. Eh sì. Ah, hanno i simboli... Che ci sono... Hanno i simboli che ci sono lì, quelle rosse. Le rosse hanno i simboli che ci sono... Eh, in questo enigma qua. Quanti? E l'altro sono 1, 2... 1, 2, 5? Ah, aspetta. Forse ho capito. Ok. Ah, ecco. Devi vedere quanto pesa questo. Mettine due. Mettine più di una di palle. Eh no. Eh come no? Eh, pensavo che in base a quando si bilanciava era il numero. Va, questo. Ah, ok. Quale sono? 3. Quindi... 3 in falco. Sto scassinando le casse, ragazzi. Metti la bistia. La bistia pesa 2, secondo me. No, pesa 1. No, 1 è troppo poco. Quindi... Ma perché di qua avete messo 6 palle? Aspetta, togli questa. Ok. Qua c'è un alfabeto. Pesa 2. No. No, questo è 6, 5. Pesa 2. No, 2 è poco. Pesa sempre 3? No. No. Pesa l'aquila. Metti 3, metti solo il 3. Aspetta, l'aquila è 3. Qua c'è un altro quadro. No, l'aquila... Ma hai messo... Ma perché hai messo... Eh, l'aquila è 3. E quindi è meno di 3 e per forza 2. No. Ma qui c'è 1, c'è. Però 2 e 1 non va giù. Ma scusami, ma l'aquila non è 3. Uno solo? Cosa? Lassa solo 1. No, ma se non va giù con 2, con 3, come fa ad andare giù con 1? 5 e 1? Hai provato 5 e 1? Aspetta, ma scusami, ma il falco... Aspetta. Ma il falco non era... Ah, vedi, 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 5 e 1. Ah, vedi, il falco era 5 e 1, quindi è 6, non era 3. Quindi è 6. Ok, quindi il serpente... Metti il falco... Togli la palla. Ma sta palla perché l'avevi tirata qua? No, quale è 6, scusami. No, questa è 6, è vero. Facciamo l'altra prima, scusa. Fai l'altra prima. Ok. Eh? No. Eh, provo a mettere 3, provo a fare 3. Dov'è? Ma manca una, ne manca. Eh, dove è andata l'altra palla? E qua, l'avete buttata qua, ragazzi. Quindi 2... Ok, quindi questo è 2. La bistia qui è 2. Manca il serpente. Il serpente... No, togli da sotto questa. Ok. Così è troppo, però sì, metto tutto. No, perché... Secondo me possiamo mettere... Ecco, vedi. Quindi è... No. Che è successo? Ok. E... 2 più... 2 più... Questa che cazzo è? 2 più 2, 4. 4. Ma che fatica, ragazzi. Oh. La testa di cacchio... Dove andava? Gli ezzaro, guarda un po' dove andava. Eh, quella è là. Lo sciacallo. Il giacca. Il giacca. Nello stomaco. Il giacca. De giacca, sì, stomaco. Ok, manca la... Dei mettere in un certo modo, eh, Moro. Eh... No, non importa. Eh, manca l'ultima. Dove è uguale. Non credo. Manca l'ultima. Eh, questo gioco qua dobbiamo fare. Manca la roba del cuore. Quindi il cuore, questo qui va qua sopra. E di qua ci va... Ecco, qua dentro cosa si è trovato? Dentro la... Qua dentro ci ho trovato una pergamena che... E qua? No, dentro la barra quale? Ah no, qua non... Qua ho trovato la chiave che ci ha servito per aiutare. C'è la sua chiave? Sì, è pieno di geroglifici, però. Li ho buttati tutti nel bidone, li ho buttati. Qua è pieno di geroglifici, ma non ho capito come usarli qua. Eh... Ma secondo me va il calice, ragazzi. Non è il calice. No, non è il calice. Abbiamo 5 minuti, abbiamo. Cos'altro c'era lì dentro? Qui c'è una serie di combinazioni. Forse va trovata la combinazione... Eh, ma come facciamo a capirla? Non succede niente se li premi, vero? No. Dimmi i simboli che ci sono. Leone. Leone. Poi c'è una specie di occhio. Un labirinto che non si chiude. Due pettini. Il cactus in orizzontale. Uno scarafaggio, uno scarabeo. Un mezzo tondino. E un... Un papagallo. Un'altra cosa. Ho trovato un tocco, non lo so. In basso dove c'è la bara, che ha aperto Marco, c'è una quadriglia che è uguale a questa... Sì, l'ho già fatto quell'enigma. No, sì, quello lì l'ha già fatto... L'ha già fatto, Marco. E che qua dentro ci sono le robe che dovrebbero andare in mano ad Anubis. Vedi? In mano ad Anubis si vanno... Qua il cuore l'abbiamo messo. L'altro è questo... Piumotto qua. E quel papalone là. Devi fare sto gioco qui, sicuro. Sono cinque simboli. Solo che non succede niente. A meno che non c'entrano le cose che ci sono qua. Quelle intorno. No, ma è quello che ho in mano io. E' sicuramente questa. Sono i cocci. Questo non serve un cazzo. La palla la butto nel bidone. Ah, aspetta. Gli Ezar. Qua nel sarcofago ci sono i due pettini che sono qua. Quindi va premuto quello. Ah, dici, vanno premuti quelli che troviamo in giro. Secondo me ci sono gli indici in giro, sì. Poi. Quadratini? No, non sono. No, non credo. No, sì, il labirinto. Fai il labirinto, guarda. Ecco, vedi? Fai il labirinto. Ce l'hanno nella mappa. Nella mappa c'è il labirinto che è questo qua. No, non credo. Eh sì, guarda. Credo, Marco, quello lì è la cosa che tu prima hai fatto sto coso sotto. Te l'hai fatto a caso, credo. Sì, non l'ho fatto e si è sbloccato questo. E si è sbloccato questo qui. Ma se tu vedi il disegno giallo che è rimasto, ricorda un po' questo disegno qua. Ma non è quello, non è che ricorda. Non è quello. Quello lì è un simbolo di prima. Bisogna cercare, però, sono d'accordo che bisogna cercare quei simboli lì in giro. Perché appunto abbiamo trovato le due ravanature. Abbiamo pochissimo tempo, ragazzi. Due minuti. Sono le insegne delle pergamene. Oh no, tutte quelle che ho buttato via? Io ho questa pergamena qui che è piena di simboli, ma non... Fa vedere. Però non sono tutti diversi, non c'entra nulla. Aspetta, non è vero. È come il gioco della bomba. Aspetta, eh... Fa vedere. C'è uno scarabèo, ragazzi! C'è uno scarabèo. Dove? Va premuto. All'interno, se guardi nel buco dei sarcofagi. C'è uno scarabèo. Si può riuscire a vedere? C'è uno scarabèo lì. E qua come cazzo lo vedo? Poi... Eh, lì non si vede, infatti. No, lì non si vede. Eh. Eh, cos'altro potrebbe essere? Dai, un minuto e trentacinque. Ma le pergamene non... Sì, nelle colonne secondo me non contano, perché... Non è che c'è qualcosa nel cestino. Ho la pala, fammi guardare la pala. Allora, nel cestino c'erano tutte le pergamene qui sotto, qui. Che io le ho buttate via tutte quante. Perché mi danno fastidio. Il calice? C'era qualcosa nel calice. Questa pergamena è diversa, però. Non è il calice. Ragazzi, mancano... Sono dei simili. Questi qua, Glizzar. Occhio, labirinto, erve. Occhio? Labirinto, erve. Ma labirinto qua non c'è, labirinto. Sì, questo qua. Eh, ma non quello che ho nella mia, per favore. Però l'occhio non c'è. Cioè, questo qui non è l'occhio. Vabbè, lo scarabeo va premuto comunque, anche i pettini. Eh, ma non so. Dipende se è quella cosa lì, Marco, oppure no. Eh, perché mi dovrebbe far vedere il... Aspetta, c'avete ragione. Dove cazzo l'avevo messo il piede di porco? L'ha preso il piede di porco? Eh, io ce l'ho io. Spaccalo, spacca ste bare. Ok. Porca miseria, lo scarabeo è anche l'altro. Che schifo, un leone. Leone, scarabeo e... le... i pettini. Ok. Veloce, veloce, metti, metti, metti. Metti. Al pelo, eh. Il cuore. A posto. Mamma mia. Sempre... Mancavano 10 secondi, tipo. Tutti al pelo, li stiamo facendo tutti al pelo. Uhuh. Cosa balla? Come balla gli... Sempre gli iscracoli che vanno male. Mamma mia, ragazzi, al pelo, al pelo. Vabbè, un'altra, dai. Mi son preso benissimo. Ma è bellissimo. Voglio farlo per tutta la mia vita, forza. Dai, tosperto. Continuano ad essere i livelli dell'Egitto, tra l'altro. Uli sono tantissimi. No, perché c'è tutta la parte dell'Egitto? Poi dove sono? Eh sì, è tantissimo. Eh, mamma mia, così è partito, però. Vabbè. Allora, ci siamo scrigno. Ci sono, ci sono. Ah, ok. C'è uno scrigno, una scatola di varie scatole di fagioli, una ricetta trasmittente, una piramidina. Aspetta, partiamo, allora, fermi, fermi, partiamo dal solito... Rompiamo i vasi? No. Partiamo dal solito aiuto qua, così partiamo da lì. Allora, dice di guardare il numero delle... Grazie, Matt! Grazie, Matt, il numero delle... di queste, ecco, vedi. Che è il rosso il secondo e il rosso il quarto. Dov'è il bidone? Devo sistemare io. Però non... Quindi due e quattro, perché? No, c'è un piccone. Allora, ci sono ste piramidi che hanno delle bolle dentro di diversi numeri. Poi ci sono qui, baked beans. Quattro. C'è un... Eh, c'è un... C'è un... Un mestolo. Ah, aspettate! Qualcuno metta su quattro. Dove? Queste... Questa leva, l'altra leva, quella di là, quella di là. Metti su quattro. Ma... Eh no, mi va su, ragazzi. Eh, vedi? Ah, lo devi tenere? No, ma non è possibile, non può essere da fare in combo. Dei, due e quattro, così. Due e quattro. Ma dove vedi? Perché due e quattro? Quei, non vedi come. Eh, per gli anubi. Secondo. Ah. E il quarto. Eh, ma scusa, il secondo sarà questo allora, quello di fronte. Eh, vabbè, forse sì, forse sarà il contrario. Quando io ero giù quattro, lui è passato sul due. Ah, perché? Si è aperto qualcosa? Questo, si è alzata sta cosa. E non ho sentito niente. Ma scusa, io non la... Io non ho questa... Questa statua qui non c'era prima. Ma quale statua? Questo cacato? Ma ve lo la vedete? No. Io vedo il coso sotto. Io vedo una statua. No, io da me c'è ancora il pistolo. Eh, io vedo una statua. Eh, ma rifatto. Fai il 2-4 qui. Fatti. Ok, adesso lo vedo. Ah, ok. C'è un fuoco. Che piedi, ragazzi? Ma che piedi? Nel fuoco dobbiamo fare le scatole di fagioli. Infatti da Dio sti piedi, signor faraone. C'è un fuoco. Allora, ha un token. Dammi il token. Eh, ma questo è facile, ragazzi. Ci sarà da mettere. La piuma e lo spago. Chi è che ha rubato il piccone? Poi, io ce l'ho io. Poi c'è l'occhio. No, l'occhio è qui. E poi c'è il... La capanna col bust e... Il pappagallo. Però questo si sposta e basta. È perché è grosso. Devi dargli una martellata. Devi dargli. Guarda, così puoi fare. C'era dentro qualcosa? No. No. Allora. Perdiamo sti cose. Allora. Aspetta, aspetta, Moro, togliti. Aspetta che si apre, è qui. Eh, lo so. Aspetta, togliti. Che forse se la faccio io. Eh, tolgo le robe. No, basta spostarle. Ah, no, è già aperto. Forse. Ma qui sotto... Eh, non ho capito, Liezer. Non ha fatto niente. Quindi c'è un altro modo da... Però perché questo è segnato? No, aspetta, anche di lato. C'è la roba. Tiralo via, tiralo via. Guardiamo tutto. Allora, anche dietro. Ah, ok. A due, due, due. Aspetta. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, la parte davanti è tenda e pappagallo. Quindi dov'è che ci sono sia tenda che pappagallo? Tenda? Tenda e pappagallino. E il primo dovrebbe essere così. Poi, bisogna andare verso destra o verso sinistra? Eh, ma come fai a capire quali sono? Perché non... Perché ci sono dei rettangoli che li raggruppano. Ok, questo di qua l'ho fatto? Quel leone... Eh, ma di lato non c'è... Ah, di lato c'è piede e gufo. Piede... E gufo. Sì? Ok, posto. Chiave? Che va messa qua, probabilmente. No, di qua, dietro di... Ah, giustamente. Ah, giustamente. Allora, c'è delle monetine. C'è il laccio del malaugurio. Le monetine, aspetta. Va bene vedere una. Qui c'è la gemma sopra. Ma l'uccellaccio? Mettito al culo. Eh, però la lascio qua. Caduto, te lo butto nel bidone, se non si stemi. Sono lì per ora. Ma sta roba qui l'abbiamo fatta? No, questa no. Ah, aspetta. Quanti sono? Due... Blu, tre rossi e cinque bianchi. Ok. Due, cinque, tre. Ok, abbiamo il toro, il birbante. Non era niente dei zussodri. Chi è? Ma stai zitto, Google. Cazzo. Allora, aspettate ragazzi, qua, che collega i due portoni. Ma scusa, e se io apro anche questa qua? No, non funziona. Aspettate un attimo, c'è un liquido che deve finire qua in mezzo, secondo me. Sì. Il fuoco, no? Forse il fuoco, proprio questo. Sì, il fuoco, glielo devo rompere. Vediamo se rompendo... Vediamo se devo rompere qualcosa col piccone. Se fondiamo, scusa, se fondiamo le statuette d'oro... Eh, forse è fondere, sì. È fondere, esatto. Però potrebbe essere, potrebbe essere. Infatti si sta alzando. Ok, perfetto. Serve un'altra statuetta, però. È questo giochino qua. Ma se metto i fagioli, ragazzi? No, i fagioli si cuociono, Marco. Non metto i fagioli. Scusami. Ma c'è un cucchiaio, così possiamo... Ma c'è un buon sette... Ah, lettele... Scusami, è una cazzata questa. Allora, la piramide più grande qual è? A vedere. È questa qua. Quanti ce ne ha dentro? Aspetta, eh. Guarda. È tre. Ok, poi? Eh, non lo so. Ho perso il segno. Aspetta, fammeli mettere per terra. Ok, quella media... Ce ne sono un, due, tre, quattro, cin, sei, set, otto. Ok. E quella piccola... Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E questo è un altro... Il corno qui, là. Esatto, metti ben bene le cose dentro, eh. Eh, ne manca ancora uno. Eh, questo baule, bisogna aprire questo baule qua. Eh, la chiave io ho provato a riusarla, ma non funziona. Eh, no. Il cucchiaio. Ma che gioco manca, però? Con il cucchiaio l'altro. No, ma... Qua c'è questa, ragazzi, per il cucchiaio. Credo c'è la scatola di cibo qui. Sì, ma questa... Ah, magari c'è dentro... No, dentro c'era un token in questa. Ah, aspettate, ho un'idea. Qui c'è un'altra scatola di cibo. Doveva pure aprire, se poteva. Come si fa ad aprire? Ah, con... No, quella lì era perché era già aperta. Qui? Questa è chiusa, in realtà. Eh, sì. Anche questa è chiusa. Le altre sono tutte chiuse. Allora, aspetta. Le allento sul fuoco. Quanto ci manca? Non credo funzioni così. Col piccone non mi fa niente. Non ci sono altri enigmi, scusami. Col piccone non fa nulla, comunque. Quanto abbiamo? Sette minuti, dai. Sempre al pelo, eh. Aspetta, chiediamo un attimo qua. Eh, grazie. Cosa? C'è una chiave per aprire quello che mi dà il coso da... Eh, la chiave non è quella lì. Però questo cassone... C'ha, vedi? Eh, basta tirare qui. Ah, non l'ho visto. Adesso questo lo usiamo da fondere. No. Lo usi... C'era una chiave, quello che hai aperto. Dove hai preso la chiave? Qua, qua di lato. Si è aperto la stanzina. Questa è una gran bugia. Mi è caduta la maniglia. E la maniglia cos'è? Un butt plug questo? Me lo metto nel culo? Fa vedere? È un pomello, ma andrà messo qua. Ah, non è... Forse di sciogliere anche quello. No, 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 no. Però non è bastato. Aspetta, aspetta. Marco, girati. Cosa? No, perché forse va rovesciata. Il piccone? Eh, non si incasta a nessuna parte. Non è che devi romperla col... Prova a tiraglielo forte nella testa. Ma se prendo un piede di sto signore e lo sciogliamo... Alle 22, ragazzi. Sì, lo set of play alle 22. Vabbè, mettiamo... Facciamo una lega, facciamo. Ho messo il cucchiaio, ragazzi. Bravo, bravo. Dov'è finito? L'hai preso tu? No, l'hai messo dentro. E non c'è più? No, ci mettiamo anche un po' di zuppa. Eh, ragazzi, mi staranno i suggerimenti inutili. Ma basta di fare i suggerimenti tu, scusa. Ma qui c'è un'altra chiave. Dove cazzo dici dove? Qua, qui sopra qua c'era una chiave. Ma quella, era quella che ho tirato via io. Ma se qua è sto pomello... Sto pomello, dai, non è normale che è caduto. Servirà qualcosa. Qui, di qua, forse? Perché qua c'è. Dove è? Ma qui c'è un pomello che di qua non... Ah, sì, c'è anche di qua. Ma il cucchiaio è imprendibile, ragazzi. Non è più possibile... Ma vi marco il cucchiaio. Pomello, no? Servirà qualcosa per forza. Lo butto. Tanto tira degli scattoni. No, ma ragazzi, aspettate un attimo. Perché il vaso che si muoveva pesante prima, l'avete rotto? Se si può rompere non credo che serva. Io ho spaccato... Non è che l'ha rige trasmittente? Ho rotto tutto quello... L'ho buttato nel bidone. Scusate, l'arige trasmittente a che serviva? C'era un token dentro. E basta? Eh, ho fatto la frequenza, si è aperto, c'era un token. Senterò dei fischi incredibili. E la... Mi fanno buttare per sempre nel water. Prova a leggere blocco note. Chi è che ha il blocco note? Con mezzicocci c'è un coso d'oro. Ma porca di una puttana, ragazzi. Ma non l'hanno visto? No, no, posto, posto, Marco, posto. Posto, ok. Ma non c'è cosa mancava? Cosa mancava? C'era un poccio a terra. E che giallo su giallo. Come cazzo è fatto... Avete fatto vedere? Io. Abbiamo finito l'Egitto. Abbiamo finito l'Egitto. No, non credo, non credo. Sono usciti coriandoli, non me ne ero colpo qui. No, non penso. Sono 7000 solo in Egitto, Marco. Sai chi li ha fatti quei cori? Io, io. Io li ho fatti, io li ho fatti. Io, io. Scusate ragazzi, se non vi leggiamo troppo è che... Non vorremmo neanche spoilerate, ma magari ci avete giocato anche voi. Allora. Allora, intanto prendo la palla e me la sostituisco ai miei testicoli, eh. Sì, così ne hai di più. Allora, qua c'è una delle monete. Il cammello... Come? Aspetta, aspetta. È questo, è questo allora. Allora, il frecciadest... Frecciasinistra... Cammello beve nell'oasi... E... Allo zenith del sole. Quando lo scorpione si nasconde nella piramide. Poi, freccia in su... Il cammello dorme nella piramide quando il sole... Aspetta, aspetta. Quando il sole sorge... Aspetta, ripeti, ripeti questo, ripeti questo. Il cammello dorme nella piramide quando il sole sorge, lo scorpione lurca nell'oasi. Credo. Allora, lo scorpione lurca nell'oasi e il sole sorge. Eh, sunset, sì. Quando sorge il sole. Ragazzi, ma Aliezer è caduto il cappello. Ok, poi? Poi, destra... Il cammello è morso dallo scorpione... E le dune di sabbia... Ah, quando le dune di sabbia... C'è... Ci esce fuori il sole. Insomma, no, di cose. Quindi. Sunset è il tramonto, se infatti è funzionato dall'altra parte. Ok. Ah, ok. Ha vomitato un pallone. Bello, bello. Abbiamo quella blu e quella rossa adesso. Allora, piede. Ah, bene, lasciamo un po'. Io faccio un po' di pulizia intanto. Tenda e piede. Così, a caso? No, è sopra. Sono i simboli sopra. Mi sembra troppo banale. Ah, no, ma ti sping. Ah, no, no, vabbè. C'è il percorso, c'è. C'è il percorso, Marco. Ah, no, il primo... Allora, di qua il piede. C'è il percorso, sì. Il primo, il primo ha sopra cubo, sinistra onda, destra pettine. E, come ne me... Quindi? Eh, allora. No, il piede, vedi, c'è il percorso. Qua c'è piede. Qua c'è quadrato. Qua c'è quadrato, aspettate un attimo. E qua c'è tenda. Le balle ci vanno. Poi, qua so... In questo caso c'è quadrato. No? Ondina. E... Pettine. Ah, sunrise quando sorge. Porca paletta. Pettine di qua. Sbagliate, scusate. Grazie, cheeseburger. Leone. Amici, meno 5 sub alle 1400. Moro, vieni qua. Allora, aiutami a ricordare quello che si illumina. Allora, centro. Centro, sinistra, destra. Destra. Destra di nuovo. Sinistra. Quindi. Centro. Sinistra. Destra. Centro, sinistra, destra. Ah, no, aspetta. Ah, quando sono due, c'è... Cioè, quando è l'uomo più l'uccello, è l'uomo uccello, vedi? Ok. Aspetta, rifai da capo, rifai. Grazie, punkers. Grazie, punkers. Allora, domani mattina vi faccio un balletto elaborato, eh. Allora. Mi raccomando. Mi raccomando, elaborato, vuoi. Sì. Sinistra. Due. Assieme. Destra. Due assieme. Ma come che... Eh, due assieme. Dentro. Eh, ma come li faccio a illuminare tutti? Sinistra. Questo. Questo. E questo. Eh, no. No, 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 no. Che ci sono, ci sono, aspetta. Ok, ci sono, ci sono. Ah, no, uomo uccello, poi uccello, e poi uomo cacchio. Allora, faccio io. Questo. Questo. Uomo uccello. Questo. No, hai sbagliato. No, sì, là di là. No, era uomo uccello, era. Come è uomo uccello? Eh, sì, guarda. È questo, 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 questo e questo. Ah, li ho invertiti. Ok. Va bene. Ok, la boccia questa qui sarebbe, non lo sappiamo. Eh, beh, mettila giù qua, però, intanto. Se ne sapevamo già quale altre due mettiamole qua. Marco, se hai ricavato qualche cazzo, metti il cappello. Ah, non è il tuo, scusami, che imbarazzo. Non era il tuo, non era. Non era l'indizio qua, aspettate un attimo. Allora, qui abbiamo... Qui abbiamo del vento. Non c'erano dei fogli da qualche parte, no? Allora, vediamo. Sì, ma era la roba del cammello, era. Allora. Mi dice di fare tipo un'operazione. Mi dice di fare quello, più quello, più quello, più quello, uguale. Allora. Perché qua, il primo che va di qua è il piede. Ma cosa vuol dire il primo che va di qua? Vedi che c'è il percorso. Il percorso indica che questo qua deve essere un piede. Oh, non è vero. Nel primo c'è un piede, una gomma e un quadrato. Oh, ora ho capito cosa servono. Eh, certo. Dico, se tu segui il percorso del rombo, Moro. Ma stai giusto. Se segui il percorso del rombo, ti arriva l'ultimo. Quindi il piede da mettere è l'ultimo di qua. Non è il piede. C'è un piede, un cubo e una gonna lì nel primo rombo. Eh, ma tanto di quelli... Allora, al massimo posso mettere questo. Cosa se ne sai cosa ci va di quei tre simboli? No, ma infatti stavo provando, però per dire... Eh, ma non devi, però devi capire cosa... Ok, no, no, provando, stavo cercando di capire. Manca solo quello. Il primo, il primo, che è quindi il secondo rombo, che non è un rombo, in realtà è un quadrato messo... È una tenda, io la chiamo tenda, quella lì. No, non è una tenda. Che vuol dire una tenda? No, qua, ma non questo, le dico in alto. Il secondo... Eh, tenda a piede quadrato. Nel primo, tenda a piede quadrato. No, nel primo, che sarebbe il secondo quadrato, c'è il... C'è onda quadrato e pettine. Onda? È un'ondina. No, da me non è così. È un'ondina. Ma dove? Da me non c'è questa cosa, Amoro. Il secondo... Sopra. Marco, sopra ci sono i quattro rombi. Certo. Il secondo rombo sarebbe il primo, questo qui. No. Sì, sì, perché... Sì, 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 sì. Quale simbolo ci va, però? Perché sopra c'è... Eh no, quello sono... C'è un'onda, un quadrato e un pettine. Andiamo un po'. Da un indizio. Però... Ci sono anche ste robe qui di fianco. Che cazzo vogliono dire, ste robe qui di fianco? Allora. Quadrato. Ok. Questo è l'unico che ha l'ondino. Quindi, ondino. Allora, lì sono tre, sì. No, l'onda c'è anche quattro. Ma questi, secondo me, sono le... Cioè, cosa servono queste robe a sinistra? Non capisco. Eh, sono i rombi, Moro. Quelli sono i rombi. E cosa sono i rombi? Ah, aspetta. Moro, 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 Moro. Sono i rombi visti dall'alto sopra. Esatto, sono i rombi. Eh. Manca... Dobbiamo trovare quello che manca. Ah, sono i rombi visti dall'alto. Capito. Quindi, qua ci deve essere... Allora, onda quadrato e... Non è questo. Onda quadrato è... E c'è il legaccio. Esatto. Quindi, qua ci va il legaccio, così. Poi, il secondo è... Labyrintho, piede onda. Sì. Labyrintho. Che storia. Che belli sti veniti. Labyrintho, piede onda, ci va il piccione in brodo. Buono. Poi, qua... Cosa ne sai, buono? Magari te lo cucino con le feci. Lo maggiorno tutti. Leone tenda noctowl. Leone tenda noctowl è questo, guarda. Leone tenda noctowl, ci va il pettine di lino. Che non gli serve. Eh, avevo vinto. Vai, metti lì. Perfetto. Lo preso io. Adesso lo scopio. Cos'è? Una lente. Ah, bisogna... Questo è il gioco di specchie leve. Sì. Tutto via questo che mi dà fastidio. In base a cosa? Ah, bisogna fare il labirinto. Sneri, perché lo sei. Ah, però... Dov'è l'entrata, scusami? Dov'è l'entrata? È quella dove sono io? No, potrebbe essere anche questa. Ma credo che non è stermi. Sì, basta farle combacciare. Cioè, basta mettere questi qui... Il percorso. Questi qui... Eh, però cazzo, aspetta, che non combacciano gli scarababèi. No, così sì. Ah, no, è il percorso che devono fare i vari scarabèi. No, no, fermo. Quello esterno è giusto. Questo esterno... Ogni scarabèo deve riuscire ad arrivare al punto. Ok, questo qui esterno è giusto. Track. No, c'è una riga qua... No, no, ragazzi. Aspetta, gli scarabèi devono avere un'entrata e devono arrivare anche loro. Ogni scarabèo deve avere un percorso giusto, secondo me. È quello, no? Perché da me li state tappando tutti. Aspetta, che c'è un cerchio più piccolo, c'è qua. Bisogna capire se il percorso... Eh, ma tipo, questo qua non entra da qua. Come fai ad entrare? No, è da lì il percorso, eh. Non è lo spazio aperto. È la riga? Eh, credo che sì. Ok. Allora, questo entra. Questo entra. E questo entra. Era solo semplicemente di un millimetro spostato Mario. Dovevamo salire, forse? Ah, no, ok. Eh, minchia. Ah, io ne farei ancora uno e poi... Vai, facciamone un altro. Bello, comunque lo riporteremo sicuramente, ma che fisso. Beh, quanti ce ne sono ancora? Eeeh, Marco. Infiniti sono. Ma salvi, spero che salvi, piccolo. Penso di sì, dai. Beh, sì. Che fai, ti rifai gli stessi? Cioè, abbiamo gli achievement con le cose che abbiamo fatto. E' rimasto intrappolati per sempre. Eh, guarda le mie palle. Ah, qua c'è. Quando dobbiamo indirizzare il coso... Rezzaro, il cappello. Ah, non è il tuo. Scusami, che imbarazzo. Allora... Lo butto giù per la piramide. Ah, è un ped questo qui, ragazzi. Questo è per te, Moro. Questo qua per terra è proprio per te. Cos'è, un batplug? Ma lo metto nel culo? Guardalo, proprio qua. È un ped, ragazzi. Anche qua c'è un altro. Che è un ped? Eh sì, è un ped. Devo mirare sul... Aspetta, che c'era un pisello. Senti, va mirato al raggio di sole. Ah, va? Qui c'è dell'acqua. Zitti, zitti, che adesso li prendo tutti, questi, eh. Ok, uno l'ha acceso. Vado a fare gli altri. Fatemi aguzziare la vista. Un attimo che sto giocando io, eh. E due. Ma cosa... Non mica ho capito. E vanno accesi. Devi mettere il raggio nella direzione giusta. Ma a caso, andranno accesi secondo una sequenza. Cioè, andranno accesi quelli giusti. Non è che li accendere qui. Non lo so, secondo me li devi accendere tutti. Ma non penso proprio. No, sarebbe una cacazza incredibile. Tosta lettera, cosa dice? Ah, vedi, Marco. Please, foundi. No, c'è il disegno qua sotto, ragazzi. Sarà questo. Ah, devi fare questo disegno. Sì, devi fare quello. Quindi, aspetta che torni indietro. Quindi è completamente sbagliato. No, vabbè. Più o meno, dai. Ci siamo. Allora, il primo giù deve essere. Va, va, va. Il problema è questo. Aspetta, il foglio che hai preso, Moro, cosa diceva? Era per un token. Era per trovare un token. L'ho trovato. Questo invece che è un fiammifero? Un accendino? Eh, è un zippo. Ok, dai fuoco a qualcosa. Volevo rivedere sto foglio, magari. Forse bisogna accendere tutti i fuochi? No. Ok. Cosa sto? Moro? Eh. Cosa cazzo stai facendo? No, non so. Sto girando con il robot dentro, ma non ho capito. È per capire cosa c'è dentro, vabbè. È quello... È... Ah, aspetta. Qui ci sono dei simbili. Aspetta. Sì, è zigrinato e ha pallini sotto. Pallini sotto? Beh, può essere... Allora, è quello? No, è il... L'omino o la... Questo, questo. Ok. Però è zigrinato... Cioè, è a righe... A righe orizzontali sopra e a pallini sotto. Ah, no, non è l'ultimo sbagliato. È quell'altro lì, vedi? C'è. Eh, sì, sì, sì. È l'unico che è questo. Era quello. Vabbè, non era proprio orizzontale, si vede. Ne arriva un altro. Sta avendo fuori un altro. Così. Aspetta che se... Oh, c'è un sacco di roba. C'è miseria. Marco, la smetti di fare... Non... Aspetta, magari trovi la soluzione. La posso impuntarti. Ma è questo? Devo fare il disegno. No, ma è quello. È quello lì. Quale è il disegno? Ah, no, è quell'altro lì. Aspetta, è di là, era di là. Ah, no, è quello lì, secondo me. No, è che c'è uno rotto. Devi accendere quello rotto sotto, lì, Marco. Non è così. Spegni quello in basso a destra, lì. Ok. Sì, esatto. Devi spegnere quello tutto a destra che è accendito. Spegni quello... ...e quello a terra. Accendi quello per terra rotto. Ah, quello a terra non lo consideravo proprio perché è rotto, appunto. Dove sta andando? Tu sei rotto. Non sto uscendo. Grazie, tolco. Ma non è uscito, tra l'altro. Ma sono usciti dei piruloni qua. Allora, aspetta, qui sono alzati sei cazzi. Ah, ok. Ah, ci sono dei cubi con diverse figure qua. Grazie, Step. Durante gli enigmi mi raccomando, senti al vento forte. Tra Frosinone e Bivio ha... Ci ha detto anche la situazione della strada. Grazie, Step. E Tonico. Grazie, per il mio bambino Luigi. Aviamo. Madonna. Ok, qui ci sono le tre cose... Cinque cose. Cinque cose. Che è? Vabbè questa sarà la piramide che ho acceso No non è vero Ah aspetta aspetta questo l'ho capito Ah bisogna ok questo qua ho capito Quello del cubo bisogna mettere in modo Che si vedano tutti Cos'è prospettiva Liezar? Credo che bisogna rifare quello che c'è dietro Penso No Dov'è la sfinge dietro scusi No la sfinge è tutta a destra Liezar Sì no infatti l'ho messa di là ma ho sbagliato Allora Ok La sfinge va lì Ok questo l'ho fatto La porta è qua Liezar E' qui? E' qua la porta Sì allora aspetta Ok la porta lì E questi due alla fine Cambiali 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 No allora è questa E' questa qui mi sa l'ultima Ma avete trovato degli altri butt plug? Aspetta Questo di qua Questo di qua No è la piramide in mezzo Liezar L'entrata è la piramide La piramide è l'entrata Aspetta Allora i colonnati sono ai lati Ok poi c'è questo in mezzo Così La sfinge è tutta a destra C'è in diverse misure A metà così Ok Ok si è tirato sul pisello qui Ma forse questo qui va Qui c'è un'altra Ma cosa stanno sbloccando i cornicioli? Si è sbloccato questo qua Bisogna fare altri disegni Non credo Lunghissimo Non penso sia quello Questo l'hai fatto Moro? Eh no Allora ho illuminato tutto Ah beh ma si è aperto qui Aspetta Questo qui che però andrà Cos'è sto pomello? Non va qua sopra Quale pomello? Moro ma questa non è la forma di un pomello Qua No non ci va qua Ah sotto È quello lì Ok ok ci sono Questo l'ho già capito No Bisogna metterli in ordine Di crescenzo No è come Come ce l'ho là È come ce l'ho là davanti Le torri Ah ok quindi Medio Ok Fatto 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 Intanto faccio quest'altro io Ah no Semplicemente vanno lanciate Tutte le costellazioni Finito questo Leone Naturalmente finisce Aspetta che prendo l'altro pomello No Google Hai rotto i coglioni È di Interloquire con me Anche a me si sta continuando Ad attivare perché diciamo ok Eh Ah le statue là davanti Ok Quella col parabolone in testa C'è un'altra qui ragazzi eh Va qui Ah È perfetto Sono quattro Quella con le braccia concerte Maleducatissima Va qua dietro Questa va qua E questo qui Che se sente importante Va nel mezzo Ma in realtà Non capisci che No nel mezzo davanti No dietro Eh no è in mezzo dietro No ok che questa è girata sbagliata Ma bisogna girarle anche dal verso giusto Ah con lo spazio bisogna girarle A posto No No cosa state facendo L'avete tolto tu No mi è caduta il paesello Aspetta Come si gira? Con lo spazio Spazio mentre sono su Ah Eh mettete a posto quella Sinistra Yelzer ce l'ha in tasca Mi sa No io non ce l'ho più Allora moro qualcuno ce l'ha in tasca Ah perdonatemi che imbarazzo Ok Si stanno alzando i piruloni Ok sono comparse tutte le costellazioni ovunque Ah Fanno prendere le costellazioni Sopra sopra Ragazzi sopra sopra Sì sì ho visto Ok Ah ok allora Eh Allora Eh eh Ma un casino Quello dritto no? Allora il serpente Quella specie di serpente Che è questa Ok Ok Eh Poi c'è quest Cos'è che c'è? Cosa dite? Basta guardare le costellazioni In alto Questa Ah quella verso che quindi? Sono quattro Ogni colonna ne ha una Eh ma come fate a dire in quale colonna va quale? Questa qui dice Che la due vecina? Non è che Ah ok E E E E questo sarà il serpente Questo qua Quello è un uncino Con la gonna Vuoi vedere È l'uncino con la gonna Ecco dov'è? È qua Questo Ah l'uncino con la gonna L'avete messo di qua Qui avete messo Il cavallo Con la forfora C'è un aquilone? Non è il cavallo con la forfora Non c'è un aquilone? Quello è un È un piccolo È un piccolo avvoltoio Aspetta Non sto capendo sti due Non mi sembra ci sia Darsi una parte No non ci sono Ah questo qui è il piccolo avvoltoio Ok Ok Eh ma queste due Non le vedo in cielo L'uncino Questo qui è uno Scaraffaggio marrone Aspetta È l'aquilone Vedi? Ah bravi bravi Era uno scaraffaggio marrone È finito l'Egitto Ma sì non era mai l'aquilone In cielo Era più o meno Ma non era mai Bellissimo 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 Beh io ne voglio solo un altro Fa un culo Harry Potter Un'altra sera Facciamo un altro Ah però X2 Menuh L'abbiamo finito l'Egitto Sì sì è finito Ho dovuto fare l'Egitto Eh giustamente Quindi il prossimo è Oh no Il prossimo è Il adrift E' un spazio La prossima volta facciamo lo spazio Poi c'è questo La scena Omega Corporation Holiday Ma mamma no Poi ci sono le Community Room Ah no E quelle le puoi scaricare Le Daily Pick E i February Top of the Pops Potion Glass Cazzo questo qui bello Grazie Stan Geek Grazie mille Molto molto bello sto gioco Veramente Vabbè piaciuto La più bella in assoluto Che abbiamo fatto fino a ora In chat mi è piaciuto Per me è la più bella Perché sono enigmi Belli Non difficilissimi Quelli ci si può arrivare Non devi starci dietro troppo Ma anche il fatto del tempo Che io di solito la odio Come cosa Non è Non è opprimente Ci sta qua È molto molto bello 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 Soddisfatto Questo mi ricordo Che me l'aveva Me l'aveva regalato Morenix Mi ricordo Sì Te l'aveva regalato Grazie Ma l'acqua mi è finita ragazzi Aspettate un attimo Vado a caccare l'acqua Un gioco interessante Aspettate Sì Mi sono particolari Non Ci fai Sul ragionamento Non li fai a caso Non sono complicatissimi Quindi ci si può arrivare Sì più che altro Anche da vedere Non penso siano Pallosi Perché gli altri Magari devi ragionarci Un voto su una cosa Un particolare minimo Che Per ora Non bisogna stare a curare L'unico L'unico peccato È che È che non ci sia La componente Del C'è una cosa Veramente nascosta Che devi Guardare con l'occhio Nascosta dietro un angolo Qualcosina Questo è la prima Magari come dice Luke Magari più siamo avanti Più Vientro complicati Non ci credo Però Vedremo Sentiamo la prossima Magari ne facciamo Facciamo un'altra live Con un altro episodio Mi apre proprio Il Workshop Grazie anche Gergore Grazie mille Beh Cavolo che anche Il workshop Se la gente Li fa Fighi Potrebbe essere Potenzialmente Infinito Sto gioco Sium Bene Amici Tra poco Ci fanno vedere Harry Potter Mancano 20 minuti Ancora Scusate Ho sbagliato Ho sbagliato Stracatronk Sì diciamo Che non sono Codici morso Sarebbe bellissimo In realtà Più o meno C'erano i codici morso Cioè nel senso I geroglifici Con il libro Che devi guardarli Per tradurli Più o meno Quello è Grazie Gergo Marco che mangi? Che cazzo lì Ti ho chiesto Cosa mangi Non è che ti ho chiesto Perché hai un pisello In bocca Cosa mangi? L'altra parte Era veramente Troppo interessata E beh Certo Lo erro Eh Praticamente Oggi mi sono fatto Una vellutata di verdure Sì Siccome non avevi crostini Ho abbrustolito Dei pancarree E questo era avanzato Ho detto Piuttosto che fallo indurire In cucina Scusa Faceva il filo Oh Grazie Gaetz E Giustcant E anche Gergon Per questo Ti ha fatto partire L'hyptrain Si pirrita Fino a domani Ho finito quasi l'acqua Marco Ho finito l'acqua Dove riempirla Vai vai Io ho già riempito Vado eh Vado eh Vado eh Grazie guys Amici Amici carissimi Come state E quanto hype Avete per Harry Potter Perché io Ho solo Premura di Tapparmi il sedere Per evitare Entrate da Ma ragazzi Ma che brutto sono Con questi capelli L'uomo veramente Più brutto Del creato Proprio Con questi capelli Buone le vellutate Tanto hype Ho paura Ma spero bene Ma l'hype Ce l'ho anch'io Che non sono un fan Di Harry Potter Perché un gioco Nel mondo Con cada Hogwarts Mi intriga Marco Ti piace il pompelmo? Sì Mi piace Anche quello rosa Che bello dolcino La bevanda Mega hype Ma le 1400 sub Cosa? Qual è la domanda Capitaine? Spiega Io tra dieci minuti Ho sessione Non posso stare Hai sessione Tra dieci minuti? Ma di tipo Di D&D Perché a quest'ora Che sessione Speriamo non sia Unculata Eh speriamo No Allora Secondo me Esce quest'anno Cioè nel senso Secondo me Questa sera Ci saranno Quattordi Sono venti minuti Sono 20 minuti Di questi 20 minuti 14 sappiamo Che è un gameplay Penso che diranno La data Cioè penso che diranno Faranno vedere Parleranno E diranno Cioè spero Che diano la data E spero che non sia Nel 2024 Lo rinviano Beh Allora Devo uscire quest'anno Devo uscire No è 2022 2022 per forza Può essere anche Che non inviano Secondo me sarà Non penso che facciano Lo status play Ogwards Quando iniziava Nei libri Eh? Ogwards Quando iniziava Nei libri No Non sarà l'inizio In che senso? Ah settembre Dici si uscirà Secondo me esce a settembre E si a settembre come l'inizio della scena No Inizia il primo settembre Allora secondo me esce il primo settembre Vediamo che giorno è Ti immagini Sarebbe bellissimo però Ma sarebbe una cosa che farebbero È un giovedì Quindi è anche plausibile in realtà Un giovedì ci può stare Dai ci sta Di solito escono il venerdì Però ci sta Dai Secondo Dai Giochiamoci il toto Primo settembre Si vociferava a settembre Effettivamente Ci sta da dire Ma come fa da dire Che con quei A parte Non erano I dieci secondi Volevi dire Otamega Ragazzi C'era il teaser Il teaser dei dieci secondi Ove c'è il maghetto Che si alza Nella Sala comune Nel dormitorio di Grifondoro Cioè non si è visto niente C'è lui che si alza Io spero Spero che non sia scontato Che mai è Grifondoro Spero che ci sia Che magari ti fanno scegliere te No Ti faranno fare No Sarebbe carino Se ti fanno fare un mini quiz Un test alla hot red Non lo faranno mai Perché metti che non ti esce Fuori la casa che vuoi Grazie come orevi Eh uno lo può rifare Come su Animal Crossing No Secondo me semplicemente Semplicemente ti fa fare Il Il test Però poi te lo fa Però te lo fa scegliere Comunque lui Ma può essere Però secondo me il test Ci sta Secondo il test Sei sempre verde Che poi in realtà Non c'è nessun cazzo di test Su Ma secondo me Sapete cosa sarà A Hogwarts E vabbè perché non esiste Un libro parlante Secondo me sarà una cosa Ancora diversa Ci saranno una serie Di risposte Tipo Scelta E per questo che farà schifo Al cazzo il gioco Perché noi ci stiamo immaginando Talmente tanta roba Che non ci sarà Niente Di tutto questo Queste sono le robe carine Cioè se ci vengono a noi In mente così Perché magari ti fa Allora Ma nel primo settembre L'ho pensata io No il fatto Il fatto è che ti fa fare La Cioè ti dovrebbe far fare La scheda personaggio All'inizio del gioco Te quando ti crei il personaggio Ti fa fare la scheda Del personaggio Con i tuoi tratti E in base a quello Ti fa selezionare La casata Oppure se Selezioni la casata E ti dà disponibili Dei tratti Secondo la casata Che puoi fare Ali quella cosa lì Secondo me Non sarebbe carina Che scegli tu E basta E' chiaro che a livello Di gameplay È più divertente La scelgo io Però E beh ma Marco Mi dispiacerebbe Però se Cioè te devi pensarla Come gioco Non come se fossi un mago Per davvero Nel senso Se io voglio fare un personaggio Che non sono io Ci sta Ci sta Se voglio fare un personaggio In alleanza Eh esatto Sì se voglio fare un personaggio Caotico Malvagio Quindi voglio Farlo serpe verde O Che cazzo Chi sceglie Grifondoro Pochi Se sento solo Io Corbonero Subito Se si può scegliere Vado a Corbonero Io sono Dal coso E' riuscito Tassorosso Eh Marco E' pieno di figa Tassorosso Lo so Per quello Sono contento Quasi 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 T'altro Franci è Cos'è Corbonero Oppure lei Cos'era Franci Non mi ricordo Quindi non la trovo Ma sono tipo Tipo le classi Genderlock O Racelock Su World of War Non penso Non lo so Io non saprei Cioè io non saprei Cosa rispondere Per uscire Tassorosso Sono uscito a caso Ho fatto il test tre volte Una volta è uscito Grifondoro Due volte Tassorosso Sono Tassorosso Ma non c'è il test Ah si Serpeverde Non c'è Non c'è il test Su Sul gioco Potete scommetterci Le balle Non c'è il test Gianluca è un serpeverde Si scommette No Gianluca secondo me E' un bastardo Lo fa in realtà Non lo è No non credo Sarà online Per niente No Andato Io faccio il preside No che muori Poi Non credo ci sia Abbiamo visto insieme Avevano accennato Qualcosa sul multiplayer Però Lo streammate Non possiamo farlo vedere Mi sa O si Certo Si Ok Lo sembrano Fatto vedere Giusto Giusto Stellini per fare il test Sì c'è Stellini ti porta su Pottermore Ti porta su Pottermore Registra E farlo qui non rompere i coglioni Nel gioco lo scegli poi dopo Sarebbe divertente Allora ragazzi Se esce il primo settembre Guarda Carina Sarebbe una cosa davvero carina Sarebbe Sarebbe Ma quello lì lo reputo Molto plausibile Lo reputo Però sarebbe Incredibile Se te puoi collegare Il tuo account WizardUnite Quindi ti prendi dati Dei test che hai fatto Su Pottermore E ti dà quella roba lì Se vuoi Però Bisogna vedere se è fatto In collaborazione Beh sì WizardUnite Quello è Vediamo ragazzi Io mi chiedo se magie Tipo Crucio Saranno presenti Ma adesso non entriamo Nel quello Adesso vediamo prima Le cose base Secondo me sì Tanto ti fanno vedere 14 minuti di gameplay Un po' di roba Te la faranno vedere Magari ti fanno vedere Proprio all'inizio Ti fanno vedere 14 minuti Chissà se ci sarà Chissà se ci sarà Vim 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 Grazie Sabri 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 As to sleep Marco Cos'è Sabri Scusa Eh l'ho letta La Toscana Eh certo Sarà il mago Marco Sì Mi hanno chiesto la licenza Ho detto sì dai Comunque dicevo Secondo me 14 minuti di gameplay Saranno l'inizio E quindi tutte queste domande Che stiamo facendo Ce le faranno vedere E sarà Una cacata alla fine Faranno vedere Che il bambino Il ragazzino Arrivava a Hogwarts Gli fanno La serenata rap Di giovanissimo Ma sicuro dopo Con le mod Gianluca Al posto della signora grassa Ti troverai Gianni Fantoni Al quadro Che ti chiede La parola d'ordine Eh Al posto dei fantasmi In giro Non mi negrifondò Al posto di Nick Quasi senza testa Ci troverai Eh Che cazzo ne so Gerry Scotti Che salta e sfonda i pavimenti Ma in realtà è un fantasma Quindi non succede nulla Da queste robe simpatiche qua 14 minuti di quidditch E io mi spacco le balle Le spattative Io c'ho sempre la mia regola Non mi aspetto niente Se c'è il quidditch Ma c'è per forza Non è che si Te lo placini tutto Davanti ai miei occhi No no Non è vero Mi spacco i coglioni Va bene 5 volte lo platini Ma comunque non puoi dire Sì c'è Ma c'è per forza Il quidditch fa parte Del mondo di Harry Potter Ma perché mi devi rovinare L'esperienza Ma perché c'è È il gioco sportivo Cioè è lo sport Di quel mondo lì Ma fa cagare Fa Capito Ho capito Gianluca Qual è il problema Vi platino La parte del quidditch Perché dobbiamo chiudere il canale Scusa Nelle mie live Il canale è questo comunque Ci segnalano Il quidditch sarà tipo Il blitzball Sì esatto Ma porca troia Cioè capisci che dilemma E potrebbe essere effettivamente Strutturato anche uguale al blitzball Ma secondo me è meno fastidioso Del blitzball Ci spero Perché comunque è un gioco Nel senso Con rispetto Per il 2002 Il quidditchball Che cos'è Quando è che Potrebbe Ai collezionabili Saranno le cioccolare Ad esempio Sicuro Amici Io mi sono appena Reso conto di una cosa Cioè potenzialmente Tu se ne puoi Te l'hai già tutto scritto Eh ma te lo faranno pesare Luke Capito È come È come in Italia Se non tifi nessuna squadra Capito Se non tifi nessuna squadra Ti Ti bullizzano 53, 52, 51 50, 49, 48 Vabbè siamo lì più o meno Dai fammi togliere la chat No secondo me Non sarà così fastidioso Il Cioè in Harry Potter Se te vai in giro Mentre ci ceni Vai in giro E fa E uno ti arriva Qual è la tua squadra Che squadra di quidditch tifi Sì lo faccio vedere E te gli dici E te gli dici No guarda Il quidditch non mi Avada Kedavra Così va Metti intanto Lo stesso Sì così capiscono Lo facciamo vedere Sennò chi arriva Dice Ma quindi Come si fa Prestige Semplicemente Prestige Ma non si scrive Se c'era una roba giallo Vabbè che io sono giallo Effettivamente Su Harry Potter Il tasso rosso Il giallo c'è in due C'è Si ha Giallo rosso Anche Grifondoro In realtà è oro Ma è giallo No vabbè Ma Grifondoro Lo vedo più rosso e giallo Invece il mio È aroma Tassorosso No Tassorosso è È razzo del piano Giallo Tassorosso è rosso e giallo Ah è più rosso e giallo La sciarpa di La sciarpa di Newt È vero È vero È vero Che bastardi Sono quattro casate La potremmo mettere La potremmo mettere i colori Completamente diversi È perché Grifondoro è oro Tassorosso Perché Grifondoro Giustamente Corvolero è blu In realtà Però vabbè Tassorosso perché Tassorosso solo in Italia È tasso frasso Sì No È affolpuff Non c'è nessun colore Non c'è Il colore Scusami ma Se io scrivo affolpuff È giallo e nero Esatto Lo stemma è giallo e nero È giallo e nero È giallo e nero Però la sciarpa di Newt È vero È giallo e nero È rossa No non è la rossa No Anch'io mi ricordavo rosso Ma aspetta È gialla Scamander Gialle e grigia Mi pare No 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 Sai perché ti ricordi rosso Perché c'è il cacchio di gilettino Sotto che è marroncino Ah no è vero Avete ragione È giallo e nero E invece quella dei Ah no Non è vero Gianluca Non è vero Effettivamente nel coso di Lego Che stupido Nel coso di Lego Effettivamente Grifondoro è Rossa e giallo Sì Ricordiamo che Gianluca Era quello che Marowak L'aveva visto Come un soldato Con il cappellino dell'SS Ricordiamo Quindi c'ha un problema Gianluca Ha chiaramente un problema Come ragazzo No comunque bello Giallo e nero Mi piace Sono due colori che mi piacciono Sì la roba Ha dei colori nei nomi È una stronzata Degli italiani Bastardi Io farei il verde Perché mi piace il verde Però Sempre verde Ma tu cosa sei Glieza? Io sono Corvo nero Sempre verde Sempre merde Siete due corvi neri Sì Anche Corvo nero E Ravenclaw Artiglio di Corvo Vector Sondaggio Che casata siete? Vai ci sto In charge Dai Siate sinceri Se avete fatto il test Allora Lo sapete che io sono La persona più lontana Ai fan di Harry Potter Io ho fatto il test Il 100 tasso rosso La maggior parte delle volte Io l'ho fatto Mi sono basato sul test Se funziona Ma non penso proprio Ari Perché è proprio la cosa più lontana Vuoi venire su Discord Robby? Eh guardi Robby Se vuoi venire Qua Segui la ciueta Se ti va eh Sennò stai pure Con Eh su Discord Ti riposi Tu si su Discord Sul Discord dei Termos Ce l'hai? Che non mi ricordo Si ce l'hai Se mi date il test Di fare il testo Eh? È lunghetto Sì è lunghetto Quello da fare su Potterports È diventato un gnomo delle feci Caro malveni Fatemi votare Eh no ma io devo votare con Il mio Aspetta C'è Bryce che ha regalato Noi si ha regalato la salva a Robby Crovo nero Però Vector Ma hai scritto tasso fratto? Crovo nero Tasso sprazio Siamo tutti lì comunque Grazie Teo Grazie Teo Siamo tutti lì Siamo Devo cambiare Guardate i capelli Ragazzi Posso mettermi un bollino Sulla faccia Io non mi faccio vedere mai più Dove faccio il test Rispondetevi Prego E non lo scrivi Harry Potter test Sì Potter Ciao amici Come stai bellezza? Ciao Io sono casata uomo Cos'è la casata uomo? Non ci sono i piselli in questo gioco Non ci sono uomini in Harry Potter Come? Dici? Non ci sono Non ci sono Vietato 1450 sub Robby dov'è Nio? Vi faccio vedere i piedi Ma che sberle che ha preso poco fa Non c'è a fare No non l'ho picchiato Però allora Hai presente quando cammini? Ormai l'hai picchiato Hai fatto violenza Sì 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 Ormai l'ho picchiato Quando cammini il tuo peso Passa da un piede all'altro No? E mentre stavo appoggiando L'altro mio piede a terra Con il mio considerevole Il peso di almeno E non dirò cosa Sopra i 50 kg Il mio gatto Ha ben pensato di Mettersi esattamente Sotto il mio piede In quel momento E quindi l'hai schiacciato? Per non schiacciarlo Mi sono appoggiata Duramente Allo stipido E la porta Tipo Cazzo Pff Ora ho la mano viola E il mio gatto è salvo Bella viola Com'è il volume della Roby? Il mio gatto voleva Che lo schiacciassi Ah la silenzio Va bene Ok Va bene Perfetto Non interessa nessuno Che io sono serpeverde In realtà raga Devo abbassare un peo No Roby Sempre verde Sempre verde Eh no Sempre verde Cos'è la ganja? Ho sbagliato Ho sbagliato Nel cervello Soltanto col buonero Era un coro contro Per questi sfigati Di serpeverde Viene Albano Ha vinto corvo nero Po 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 Lungo sotto Ma che cazzo di Era così Cosa l'ascendente lungo sotto Non lo so Ricordiamo così Io da grande fan di Harry Potter Che ha letto tutti i libri Stati guardando su YouTube? Su Italia 1 Che dici? No Perché se tu play robbie Su Twitch Su Twitch Della Playstation Ok No la vado lì anche io E' un bata di me Effettivamente su Italia 1 c'era Non fa più di tempo Ma sempre di droga Su Italia 1 se c'è Nevi C'è Animali Fantastici adesso Quindi Eh ma lì c'è Hilver Morni Sprapalizzur Quello italiano? No Non credo ci sia il canale italiano Mi si c'è Ah però noi Che commentano sopra la gente Corvo nero Ok Mi non piace Lo vogliamo senza walkthrough Lo facciamo noi No voice Blind walkthrough The voice si Grazie Tommy Lemmy Probabilmente tra un po' Arrivare anche su StreamElement La tua sub Tra un po'? Tutto caso Diceva la nonna Ecco Tolly Grazie mille Faccia da Tolly Henry ha regalato la Saba a Francesco Ma che bellini Pippi Ma Harry Potter? Lui Sì sì Enrico Allora ragazzi Chi ti fate voi Dai sentiamo Io tifo Allora mi piace molto Vedi Vedi adesso Se te dici qualcosa Allora che davrà subito Vedi c'è questa Eh purtroppo nel mondo di Harry Potter C'è questa Un po' come l'Italia Se non tifi qualcuno È un casino Tu sei simpatizzante per il Milan Ma siete tutti milanisti qua Sì 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 Vedi subito a parlare di calcio Eh beh sì Per Osmosi Sì Infatti sono solo la formazione del 2002 Osmosis Jones Esatto Osmosis Milan Sì ma sbagli sempre i numeri di maglia Però anche se li correggiamo costantemente Allora Shevchenko è il 7 Ok E questo ce l'abbiamo Kakà Kakà è il 22 Bravissimo Ma Dida è l'1 Kagawa Mi pare Gattuso il 10 No 10 a Gattuso sarebbe un buon Pirlo 21 No cazzo Ok Matto 5 Ma io l'Accademia 5 e 7 Maldini forse Ma la cosa è che stai ripetendo Non lo so però la confondo C'è un po' di delay Così la confondo un attimo Che non capisci più niente dopo No Serginho Serginho era l'oggio Serginho No Figo Notte Gattuso Notte Gattuso Notte Gattuso Figo Bello Figo Figo non c'era E' stato all'Interman Una parentesi Ah era un nome vero Figo Maldini Cesare Cesare non lo ricordo neanche io Ma mi sa che ero uguale al papà Non lo so Non mi ricordo neanche io Ma si assomigliavano sicuramente Gattuso Lotto non me lo ricordavo Ringho Ha sempre avuto Mi sa anche nazionale CR8 tra l'altro Serginho Signor Gignho Saluto No uno tutto cattivo Rulava lui Era Serginho Grazie Vale Che regalo la subattassofrasso Grazie Vale Molto gentile Allora ragazzi A 1450 sub Regaliamo la maglia dei Termos Con scritto 22KK Fatta Raccogliamo la maglia dei Termos Ma che A cui hai visto Ok Cosa? Non lo so Gli arriva sta maglia Dice ma che Che è sta Grazie per i 1450 Sabo E lui tira Prego Yes Lo sai imitare benissimo Roby Ibrahimović Detto O Friariel Dove l'hai sentito Nessuno mi ha chiamato così Ibrahimović Chissà che cap Ha Ibrahimović Delle donne Grifon Giorgio Serpentino Un oraculo Un oraculo Aspetta In Hogwarts Legacy Ci sarà la possibilità di nuclearizzare tutti i serpeverde Investi in delicatezza Roby visto che sei qui Investili con delicatezza Visto che sei qui Ai nostri ospiti Serpentino Ai nostri ospiti Concediamo un oraculate Intanto grazie a Valentino che la regala Serpentino Grazie bello La prima è gratis Sì puoi fare una domanda a risposta Sì no Quindi risposta breve Al nostro oraculo Prego Ok Signor oraculo stasera verrà rivelata la data dell'uscita di questo gioco Vediamo Vediamo Aspetta imprimo bene la domanda Fai un imprinting Adesso esce sicuramente non si il tuo song Fammi vedere cosa dice Cosa dice 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 Ma io sento già parlare Eh sì sta parlando nelle mie orecchie una signora Ah Roby poi ti chiedo 20 19 Ancora Dobbiamo fare una rimpatriata su TTT E ti dobbiamo chiedere un po' di cose Cacchio sì voglio giocare Il 14 aprile Tiriti libero Va bene Vediamo cosa ho io Quel giorno Lo scopro Vabbè Roby poi risolviamo noi In caso si è occupato Facciamo la manina Che come lo 69 Che lo muovi sul posto intondo Zitti zitti tutti per favore Fermi fermi Come inappropriato per i bambini Parte subito No Madonna che bella Che scambio Pi più Scammatissima Chiudo E invece Ma Hogwarts Inappropriato per i bambini Eh Guarda che parte Warner Bros Questa è l'inizio del set Raga Sì no è tutto Incerato su questo Sì sì è solo Hogwarts Però i bambini non ci possono giocare Madonna che bello Che non c'è Harry Potter Ragazzi Aspetta Moro No no Beh ci sarà magari no Come nome ci sarà Harry Potter sicuramente Ma senti la musica Eccolo eccolo Ma vedi Harry Potter In game Ma neanche se mi pagano Beh sì ci sta Ci sta Non è Ma non ci credo No sì Non è chissà Che roba Che credi che stai facendo Qui Ok doppia Ma che qualità ho È un monster hunter Bellissimo Qualcosa Non è incredibile Sì È carino Però non è Se visto di meglio Cazzo Però le ambientazioni Sono fissime Le vibe Sono belline Ma che belli che sono i goblin Quelli sono i goblin Della gringote No Guarda che bellino Ok Posso personalizzarlo Vedi vedi ti mettono il cappello Pirla Pirlo Ah no Ma aspetta Serpeverde Grifongiorgio Tassocazzo Ma è un MMO? No È un GDR Ma non è online No Ah ok Adesso ci credo Che è in game Senza caudima Ok Salve Pippi Che carino In che anni siamo Secondo voi? Prima o dopo? Eh fine del 1800 1890 Quindi molto prima Sì Ci potrebbe essere Sì Però Come studente Ostia Come studente Ma neanche Guarda che quello è il figo Della classe È Pattinson Di questa classe Bello Ma perché devo fare i duelli Sopra i tavoli Sti brutti coglioni Dei maghi Beh c'è anche nel film Lo so Ma infatti Sono dei coglioni Eh sì Sotto a uno scheletro Di dinosauro Cioè ma Date in un posto vuoto Questo doppiaggio Questo doppiaggio Non mi piace È Britannical No non per quello Proprio le voci Sono strane Perciò ci sono molto belli Dai Beh ci stanno Non sento ancora l'hype Però mi piace molto Guarda che figo Peccato che non è multiplayer Sarebbe stato figo Eh io ho capito Che si gioca tutti insieme No no Secondo me sarebbe stato terribile Ah questo qui era quello Che si era visto La primissima volta Mi sa Acchio Ma pensavo che ti tiravi dietro Anche il quadro Eh quasi Che cazzo fai Guarda che belline Queste cose Però Ma even Piro di segreti Ecco Ehi No Dobbi A tutti Dobbi Quindi Oh queste sono cose Che ci sono dei libri Ma le cucine Effettivamente Non si sono mai viste Le cucine Con Gli elfi domestici Che mandano su Ma in realtà Anche le altre casate Non si sono mai viste Tipo Dove si esplodano Un capposto Nell'erba E Jimmy Faccia di cacca Questo qui Come si chiama Nick Quasi senza Quasi senza testa Sì quasi esatto Che un pochino è virato C'è tutto il fallo Che cade di un lato Sì Sì Ma questo è il professore Di storia Della magia No E il lupo Il lupo cattivo Di Shrek Che c'è la cucchietta Della nonna No Eh Che No Ok No E qual era solo il volo Che figlio Che Che Guarda che Sembra veramente bellina Ma la Rowling Non capisce un cazzo Non è solo Non capisce un cazzo Che che non capisce un cazzo Ho capito la Rowling Anch'io Anche la Rowling Probabilmente ogni tanto Sarà qualche lapsus Però no Intendevo la Rowling Non capisce un cazzo Almeno lui Nostra è una terza Bella sta foto Oddio Among Us Ma perché hanno le braccia così lunghe? Quindi c'è una magia strana Che non dovrebbe esserci Era iniziata a esserci Una magia strana All'interno della scuola E combattimenti Potrebbe essere brutto Il combattimento Però Come impostazione I Batman Warner e Batman Sono i Batman Che vanno più sugli attacchi fisici Ma non è Warner Sì sì è Warner No È seguito da Warner Bros Però gli sviluppatori Non sono quelli di Batman No 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 gli sviluppatori Marco non ha mai fatto niente Di nessun gioco Non ha mai fatto Non ha mai fatto nessun gioco Quegli sviluppatori Questi qui Sì Hanno fatto Disney Qualche bisogna evitare L'avevo detto tra l'altro Mi pare L'altra volta Effettivamente Non sono quelli di Giassco Ragazzi No non sono quelli di Giassco Sanno un nome simile Ma non sono quelli Oh Spell e Coffert Ma guarda che figo Ste robe Sì sì Sono Questi sono pezzi di polistirolo Però ci sta Ma vi dirò Allora Non vi fa molto il The Ring Come mood L'acqua va bene L'acqua bocciatissima Dicevo Gli ha lanciato un Una valla che dà Oh La roba dei combattimenti Secondo me Guarda che puoi andare in giro Così a farmare Potrebbe essere durino Il combattimento Perché con questa azione Sembrano fighi Quello lì è il lock Ragazzi Però tu sei L'ha un R1 Che puoi prendere le robe Però tu sei fermo E ci sono i nemici fermi Che vi fate zicchi zicchi Potrebbe essere bruttino Il combattimento Speriamo di no Però c'è quell'R1 Sì Puoi interagire con gli esi Tirarli Probabilmente Vedi? Sì è un po' come Spider Ma che prendevi le robe Poggiere con le combattimenti Poggiere con le combattimenti Ma sembra molto figo Ma io vi dirò A me sta intrigando Cioè Per carità Da me l'unica L'unica puzza È il combattimento Ovviamente giocare con il Joy Perché è un Souls Cioè ci sono le schivate Ci sono Vedi? Oh il Dash Eh c'è pure il Dash Poi prendere la spada al volo È finissima Bello Bello Bisogna vedere Effettivamente Poi in game Come sarà Questa roba Eh sì Però dai Oh Perché senza KOD Senza la video Non capisco un cazzo Di come faccio Sta roba Però è tutto a caso Devi fare il Perché da vedere È fighissimo Ragazzi Da vedere Sembra fighissimo Perché devi fare una schivata Cioè guarda Sembrano esserci un sacco di magie Ma queste saranno le skill Che devi impostarti Sì Sì A me c'è un altro Delle magie E Queste ti metti le skill C'hai sempre quelle 3-4 lì Grazie Tabithka Grazie Tabithka Gli ha fatto una poesia Contro i Serpe Verde Gli ha fatto il Perry Gli ha fatto Sì beh c'è anche la rotolata Talenti abilità Talenti abilità Telt Corra Estaticamente era terribile Quindi se viene le carte Ah che bello Quanto duro Gli ha fatto Petrificus Cazzo in mano Perché Cazzo in mano Sì Ma ha ucciso una persona Incendiandola Era compasso l'Ultre Era compasso l'Ultre Ma ha bruciato viva Una persona Scusami Molto peggio di Avada Che Dravra Infatti dicevo Tu non puoi andare in cucina Prendi un bel coltello Così Io ripeto che a Voldemort Se gli sparavano con la pistola Mordi Ok Infatti ha messo la cosa Che non vuol dire Sono erbologia e bestie Ok Cos'è la posizione Erbologia 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 Non è sceso niente Dalla bottiglia Una goccia Pochissimo gli interessa Di fare Una goccia Ma guarda quanti dettagli Porca Le ambientazioni sono Veramente Fighissime Ma Diventi un X-Man Eh vedi che ti ha corrotto Un po' che a te però Con la schifezza No E' diventato di pietra Quindi tu A scuola puoi procurarti Le tue pozioni Che ti servono a te personali Ti faccio l'erbologia io Ma guarda l'ambientazione Ma con la Mandragola Ma dai Ma poi pettinai I deficienti Bellissimo Cosa puoi fare con la palla Scusa Ok basta Venduto mio Puoi pensare Oh mio Dio ragazzi Voglio uccidermi Ma si Puoi andare in giro In tutto il mondo Volando E' la cavalcatura Non puoi non usare Le scuole E' la cavalcatura E' bellissimo Come Red Dead Redemption Ma ha più di 10 km orari Esatto Ma ma che parla Red Dead Redemption così Ah per farti il team Hai visto che bello Un JRPG Marco Verda Ma come corrono felici Pi 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 E l' planes reminding Ballgame intentions Steve Che cosa succede adesso? Non è freddo di detenzione o di rompere le regole... Quello? Che cos'è quel coso? Sebastien Salo, un slytherin carismatico Con questo ragazzo, Hufflepix non può riferire una cursa Ma è Canalacuolo, appena l'ho visto... No, però l'ho già visto lui come attore Eh, Lello Arena un po' che... No, non era Pixi Non credo era Pixi Era Lello Arena Era Lello Arena Questa è la stanza delle necessità Sì, chiamata così in inglese Tradotto letteralmente in stanza delle necessità Stanza delle necessità Ah, sarebbe l'housing Cioè la stanza delle necessità sarebbe il tuo posto segreto Il tuo hub Ah, guarda che ti fai le piante C'hanno il loro tempo e devi... Tornare quando è pronto Vedi? 24 minuti Tu c'hai 24 minuti veri della vita vera E che cazzo vuol dire però sta roba Beh, ci sta In un gioco single player E vabbè, tanto tu ti fai le missioni, le tue cose, poi torni E quando è pronto Ci stai, vedo, trovo molto carina come cosa Ma non in un gioco... Cioè va bene nei giochi personali o nei giochi multiplayer Anche in single player, tanto tu puoi andare in giro in tutti Ma puoi veramente costruire A me queste cose piacciono un santo Ma scusa? Queste robe piacciono un bot Grazie Moscardello Ma che figata quella roba Puoi cavalcare il pene come su Silksong Si dice Ragazzi, mi sta mettendo una hype ed è bastante però Cioè il gioco è definito Puoi andare a Hogsmeade Non mi ricordo cos'era Hogsmeade Spero che... è il paese di fianco Cioè... Spero che si possa andare anche a Londra Andare a vedere la gringo A me solo... Dai due colpi di magia torni dentro No, solo la dea orale Ma come si può... ti puoi vestire veramente da stronzo, comunque Ah, per questo è l'Header Io mi vestirei così probabilmente col cilindro Che non c'entra niente con gli altri ragazzi Però mentre vai a scuola ti arrestano se vai con gli altri ragazzi Cos'è il miniboss lui Troviamo un compromesso Cos'è tutta quella parte a sinistra? L'hanno demolita poi Guarda, l'unica cosa... l'acqua è la unica cosa brutta Ah, Digamix Season Occhio Ah beh, giustamente cazzo Se non metti le stagioni in... Allora, considerando che è un team che non ha fatto un cazzo finora di giochi Eh, ma quello... Ma infatti Lazard non funzionerà niente di quello che hanno fatto vedere No, però... se è così... Complimenti Però c'è una fighissima Hanno scritto prima che hanno fatto dei giochi per la Play 1 Sì, ma i giochi della Disney hanno fatto Sì, ma i giochi della Disney hanno fatto Qui si sono sbizzarriti Arme, sono busti dalla Dark Souls Lì come è? Lì come è? Li puoi ciucciare nella valigetta I Testral C'è un Monster Hunter dentro Harry Potter E' più un Pokémon anche un Monster Hunter Eh sì Le catacombe di Elder Ring Senza... senza i diavoletti bastardi Però dei dungeon che si... sono sempre diversi li potrebbero mettere in qualche modo magico No, raga, sparato una vada kedavra Che dici? Non può farlo? Beh, se non ti vede nessuno E' un Ippogrifo... No, raga, qualcuno di voi aveva Ippogrifo per Play 3 E continuava a volare sull'Ippogrifo E' un Ippogrifo E' un Ippogrifo proprio in 3 Non l'hanno fatto vedere il 15 Ma è vero? Perché non esisteva ancora qui Io passavo ore a volare con l'Ippogrifo Cazzo La data, la data Merita, merita, merita Dai, oracolo, oracolo Holiday 2022 Vabbè, c'è un periodo di uscire È Natale, sì Peccato se avranno avuto bisogno di più tempo Però se cazzo sarebbe stato figo se lo facevano uscire il primo settembre Allora è completamente soddisfatto io personalmente E' che il primo settembre probabilmente è un giorno del cazzo Ah, c'è ancora, eh? Non è finito Eh sì, sono 22 minuti 20, 22, quant'è? Ti è piaciuto, Hogwarts Lake? Preparati per il 2 Allora, preparatevi a un po' di esclusive su... Cioè, cose particolari su PlayStation perché Sembra... Sì, non penso che sarei esclusiva Ma sicuramente ti daranno dei contenuti esclusivi Sì, sicuro perché lo stanno veramente spammando tanto su PlayStation, sto gioco Cosa stanno dicendo? Magari dicono roba... Lui l'ho già visto io Anch'io, anch'io, no, no, no È un attore No, l'ho confuso con quello di... Che belle le... Che figata si disegna No, l'aiuto, chi era? Chandler Wood Chandler Wood Questi, i libri, mi hanno toccato in un modo così Che mi fa sentire Per esperienza di Hogwarts Che mi fa sentire molto più di tempo In questo gioco Vabbè, fa niente Inizio del 2023 ci può anche stare Sì, però non è onesto A questo punto dice 2023 Ricordatevi che doveva uscire il 2021 Uno, sto gioco Quindi già è un anno e passa E per quello dico, secondo me uscirà a Natale è buono Le esperienze iconiche Che i fan si riconoscono In esclusiva piace tutti con i segreti di Grindelwald È un po' larga la... La sala grande Allora, ma come ti permette? No, la sala grande rispetto al film Perché il film è un po' più lunga e stretta Ah, vabbè, ma... Ragazzi, io... Sono passati anni Oh, veramente L'avranno allungata dopo È vero Insomma, lì è veramente un tipo devastante qua Però, ripeto L'hanno detto L'hanno detto Ma non l'hanno fatto vedere il Quidditch No, perché non interessa a nessuno a Liezer Perché l'ultima cosa che manca Che farà ritardare No, è che smorzano Vabbè, ma lo tolgono Se farà ritardare lo tolgono E va bene Ah, Vale ha messo una lista Di quello che ha fatto questo team Di quello che ha fatto l'Avalance Solo che Avalance Sì, tutti i giochi Disney Ha fatto i Disney infiniti Niente Ho aperto Invece di cliccare Telegram Ho aperto Sony Vegas Invece di cliccare Telegram Invecevo di fianco l'icolo Ah, e quindi ce lo fanno fare i games Ma l'hanno fatto Il gioco a parte Ci scioppi le carte E' una storia originale che si tratta negli anni 1800 Sei un nuovo studente Che inizia La famosa scuola di witchcraft Ah, quel misto, no Di Fable Però Molte strutture così Sembrano veramente tanto fighe Alla Ma proprio alla Elder Ring Cioè, guarda sti scorci qua così Sì Ma il fatto che c'è l'housing anche È casilissimo È bellissimo L'housing lo infilano un po' ovunque Però Sì, però qui non la senti Sì, sarà open world Però Secondo me non sarà un open world È un open map No, sarà secondo me anche Eh beh, no Secondo me sì, sarà più open map Nel senso Saranno più porzioni Cioè, se vai a Hogsmeade Non è che vai da Hogwarts a Hogsmeade Volando Probabilmente ti teletrasporti là Poi là puoi volare Non lo so Sai, però perché Prima si vedevano Robe veramente grandi Quello è vero Però Però nel senso Non sarà Secondo me non sarà così tanto grande Oppure Sì, ci sono le passaporte Esatto Ci sono Ci sono diversi C'è la materializzazione Diverse regioni Semplicemente da visitare Quindi Ecco Hogsmeade Festa del film Ovviamente Questa si può esplorare tutte le case di Hogsmeade Non penso Insomma Se fosse così tanto profondo Secondo me Beh, ci saranno le tre manici di scopa Ci sarà la Oh, mio Dio, raga Che bella Raga Eh Finalmente Vediamo dove cazzo dorme il tasto rosso Eh sì Porca miseria Grazie Marco Red Grazie Marco Grazie Marco Anche i Corvo Nero I Corvo Nero Si sono lette nei libri Quella di Corvo Nero Dovrebbe essere Quella di Corvo Nero Dovrebbe essere la più bella In teoria Da come descrivere Che cacchio Roby bentornata Non Sì ogni tanto guardo e non guardo però Come no, Sem Beh vedendo dove vivono adesso interessa un voto di gente Bellissimo eh Tassaro se vivono in un posto magnifico per me C'è confondo Grifondoro è basicissimo Ma Grifondoro probabilmente È quella più bu... Cioè è vero che Serpeverde vive nella cantina No a me fa schifo con le Serpeverde Mi fa vomitare a me Chissà quanto fa freddo quello di Serpeverde Sotto la torre d'astrologia No, tipo Eh, sembra interessante Sembra interessante ragazzi Vediamo ovviamente Con i piedi di piombo ci andiamo Con i piedi di balsa Con i piedi di balsamo Ciao Ah, questa non vedo l'ora Speriamo che non esca nulla di così importante in quel periodo lì E a Natale ne esce secondo me Eh, quel fatto Quello è il problema È God of War Ho paura che sia God of War Eccan Zelda Zelda Sono più in hype per questo che per Zelda L'ho detto ragazzi, l'ho detto Anche se sono più fan di Zelda Ma devo dire che mi ha intrigato un po' Beh, allora di Zelda ancora non si è visto niente Starfield, c'è Starfield ragazzi Se è uguale al primo Magari si hypano un botto adesso con Zelda È vero, c'è Starfield Perché se è uguale al primo Comunque questo mi hypa di più Perché comunque l'altro è uguale al primo Per quanto mi è piaciuto il primo Non mi hypa troppo Ah, Pokémon c'è C'è Starfield Starfield è quello che mi preoccupa Ma Starfield non esiste Pokémon esce a novembre ragazzi Esce l'11-11 Starfield No, Pokémon l'hanno usato quest'anno ma non quando Eh, no, no, no A novembre Ha detto a novembre Pokémon mi sembra Io non mi ricordo io Ha detto fine anno ma non mi pare Beh, ma sarà sempre il solito periodo C'è tutto novembre ma come al solito Però Harry Potter è la priorità assolutamente Bello, bello Merito A fine 2020 Non c'ha del... Esatto, ci sarà Achille Lauror Bello Se puoi chiamarlo con un nome, sì Ora che schifo Gioccherai tutto con quel caschettino Che schifo Che schifo Dopo quanto Robi Mamma mia ragazzi ci voglio il ping Veramente Ping a 30 Minimo Ma è pochissimo Per questo per Lego Ma Lego vabbè Lego esce tra tre settimane Ragazzi Il fatto che no Allora Non si è visto ancora il... Il... L'editor dei personaggi Secondo me non sarà così tanto profondo Potrei cambiare qualche capello Qualche capezzolo Però non... Un capello su tutti il resto Sì, secondo me non potrei cambiare Chissà Non posso fare Achille Laureo Con il mentone E grigio di pelle No, non puoi fare il chadone E robe del genere Non penso che posso fare il chadone Sto alunno Con la faccia da giga chad In giro Ma devo fare gioco il bell Se si può fare tutto Sarebbe incredibile Allora se è così Capolavoro ragazzi Capolavoro Ma perché rendetevi conto Adesso ci hanno messo hype Poi fastidio Cioè quanto... Allora Achille Laureo È un personaggio che Se uno lo vede Che non sa che... Dice... Ma che è sta merda? Però ti c'ha affezione Lo capisci Lo... Diventa caratterizzato Diventa C'ho chad C'ho chad E va bene Madonna Amici Mi devo guardare Ti vuoi serpeverde? Mi devo guardare Anche stanno Il letto più brutto Secondo me Serpeverde è Serpremerda Sì È sempre merda È difficile da dire Secondo me Serpeverde gli piove in casa Tipo c'hanno Le goccioline sul letto Che schifo È capito Magari puzza di alga Cioè... Però boh Cioè... La mia casa breve Poi tutti i test Mi tocca dormire con i pesci Raga Mi spiace Eh vabbè dai Siamo tutti ricasati diverse Nei quattro? Noi egli zar Siamo insieme Esatto Sì? Cosa siete? Bello Credo che nessuno sia a Grifondoro Credo che nessuno Ma perché si vergognano quelli che Sono a Grifondoro Non lo dicono Non lo dicono Noi non vogliamo essere i prescelti Vogliamo dormire a casa nostra in santa pace Divertitevi Però... Amici Io direi che possiamo concludere questa giornata Ringraziamo la Giobbi di calore Eh sì Grazie a voi dell'invito Sono dovevamo vedere lo scheme Figurati 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 Puoi figurarti Segnatelo Puoi figurarti intanto? Come? Figurati dico Figurati Vuoi che mi faccia vedere? No figurati Robin Lascialo perdere Robin Lo capisco Niente Nulla Stasera niente raga Domani con me C'è chiunque C'è chiunque C'è chiunque Il 14 aprile Il 14 aprile Il 14 aprile verso sera facciamo TTT Fai 19.30 TTT TTT A 14.30 No 19.30 Perfetto Casino Già sono sbagliato subito Amici domani mattina Finiamo Elder Ring Sei già a fine di Elder Ring? Già Cioè Spero di sì Nel senso Spero di essere vicino Possiamo reddare anche lì Kalel Copium Sì allora Io redderei Kalel Perché adesso fa il commentary Un po' su tutto Sì ci parla di ridoppi i personaggi Se non lo fa lui cazzo C'è Mi pare si mette a ridoppiare i personaggi anche Ma sì ma poi c'ha la canottiera dai Che vuol dire? Nel senso che ricorda un po' me di qualche anno fa Gliel ho già detto anche lui L'ho già fatto prima io Perché il copium? Non è vero non l'ho fatto È perché hai detto che domani finisco Harry Potter Sì Elderpot Amici vi lasciamo da Kalel Ciao Belli A domani mattina E a domani sera Ciao Scotti Buona serata Ciao Belli Pi 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 pi